Buonasera a tutti e benvenuti alla quinta edizione del Festival del Pensiero. Ci siamo, abbiamo sfidato anche la pioggia, quindi vorrei sentire un applauso più forte perché è vero che finalmente ci siamo. Siamo stati tutti il pomeriggio a vedere, mettiamo le sedie, ce ne andiamo e invece ce l'abbiamo fatta. E per questo che io vorrei chiamare qui sul palco da subito quelli che sono gli ideatori di questo festival, che è l'associazione Attivamente, quindi vorrei chiamare qui Angelo e Celestino. Il Festival del Pensiero, quinta edizione, quindi ce l'abbiamo fatta, ce l'avete fatta con il patrocinio del Comune di Stornarella, Regione Puglia, Puglia Promozioni. Ma come nasce l'idea di questo festival? Allora, il festival nasce nel 2017, quindi siamo giunti quest'anno alla quinta edizione del festival, ci siamo fermati giusto i due anni del Covid. L'idea nasce da me, da Michele Carchia e poi pian piano è sempre cresciuta negli anni e si è arricchita sempre di nuove personalità che ci hanno dato una mano nella realizzazione di questo festival. Mi pare doveroso ovviamente ringraziare l'amministrazione comunale e Puglia Promozione, tutti gli sponsor commerciali che ci hanno dato una mano perché per realizzare questo festival è un'impresa abbastanza difficile e poi ovviamente gli amici del festival che sono tutte quelle persone che ci danno una mano, che sono persone diciamo straordinarie che appunto danno il loro contributo ognuno nel suo ambito. Angelo vuoi aggiungere qualcosa? Posso solo aggiungere che nel corso degli anni da due ideatori poi si è passati a tre, quest'anno fortunatamente la platea è aumentata, come tutte le cose, speriamo nelle prossime edizioni di coinvolgere ancora più gente e di coinvolgere ovviamente tutto il paese, perché comunque sì è un evento che coinvolge inevitabilmente tutto il paese, quindi insomma se ce la possiamo fare, riusciamo anche noi nel nostro piccolo a fare qualche evento di qualità, ecco non le solite cose. Sì perché io ho visto che innanzitutto vi faccio i miei complimenti perché appunto siete riusciti man mano ad allargarvi nonostante le difficoltà anche legate al periodo storico che abbiamo vissuto, poi voi attraverso questi incontri volete comunque promuovere cultura e lo fate nel territorio, riuscite a farlo perché visto che vi siete ingranditi quindi significa che questo viene valorizzato, quindi tanti complimenti a voi e come riuscite comunque a pensare Festival del Pensiero ogni anno di portare personalità per regalare un momento importante legato al territorio, perché se si parla di cultura lo facciamo nel territorio che a volte ci dimentichiamo perché pensiamo che questo territorio non possa regalare tanta curiosità che invece noi abbiamo, quindi questo Festival del Pensiero che ci aiuta e ci fa capire che ragionare è importante ma soprattutto farlo in questo territorio, quindi i miei complimenti e come riuscite a farlo anche? È un evento che insomma parte da lontano, l'organizzazione parte da lontano, già una chiusura, consuntivo di un'edizione, già si comincia a pensare a quella prossima. Quindi voi da dopodomani praticamente già organizzate? Domani no, però insomma cominciamo presto anche perché comunque noi abbiamo in programma altri eventi, altre manifestazioni, quindi daremo sfogo diciamo a questo programma, un programma 2023 e poi cominceremo a pensare a quella del 2024. Non è facile, non è facile, abbiamo scelto di vivere in questo posto e la nostra terra, qua ci sono le nostre radici, il tema di quest'anno appunto è radici, ci sono le nostre radici, cerchiamo di insomma dare linfa vitale alla nostra comunità. Grazie, ma tanto ci vedremo ancora sul palco, vi richiamerò più tardi perché tanti sono gli ospiti di questa sera ma anche domani, ma io vorrei iniziare già, mi metto di qua? Posso? Ok, grazie. Vorrei iniziare con il primo ospite della serata, pensate lei è una donna di grande successo, è un'attrice che ha lavorato con registi del calibro di Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, Pupuiavati, ha lavorato anche a livello internazionale con attori come George Clooney, Nicolas Cage e tanti altri, ha debuttato anche come musicista, come cantante, quindi direi un artista a 360 gradi e oggi ce l'abbiamo qui. Quindi io vorrei accogliere su questo palco con un fortissimo applauso Violante Placido. Ciao Viola, benvenuta. Buonasera a tutti, ciao Sharon. Ciao, come stai? Bene, grazie. Io e Sharon oramai ci conosciamo da qualche anno. Infatti è bellissima questa cosa che io riesco a darti del tu così perché se no sarei stata veramente in difficoltà. Come se fossimo in un salotto di casa. È vero, ma poi perché comunque noi parliamo di radici e tu sei figlia di questo territorio. Eh sì. Hai tanti momenti legati a questa terra, di infanzia soprattutto, ma anche molto recenti e ne parleremo bene. Sì, esatto. Ti va di raccontarci qualcosa? Come ti sei trovata in questa terra? Eh sì, certo. Allora, io appunto sono legata a questa terra per quanto riguarda le mie origini. Sono cresciuta a Roma, poi sono stata anche un po' a Girandolona, un po' perché i miei genitori appunto sono due attori e quando ero piccola che facevano le tourne teatrali spesso mi portavano in giro con loro. Diciamo che il mio spirito è un po' uno spirito nomade, però ecco mio padre è sempre rimasto attaccatissimo alle sue radici e nonostante abbia fatto direi un vero percorso straordinario, lui è sempre rimasto molto legato proprio alla semplicità della sua terra e non solo, è anche qualcosa che ha voluto fortemente trasmettere a noi figli, ci ha voluto tenere legati appunto a quello che sono le sue origini e secondo me questa è una cosa bellissima perché a mia volta io cerco di trasmettere a mio figlio che comunque è nato a Roma, da una mamma nata a Roma però c'ha sempre delle radici pugliesi esatto, esatto e penso che comunque mi piacerebbe pure avere un sangue ancora più misto perché penso che appunto le tradizioni, le diverse culture che ci sono anche tra vari paesi ma anche all'interno di un paese stesso sono comunque una ricchezza da avere e quindi niente, dicevo che mio padre in questo senso, questo legame con le sue radici gli ha permesso di, come dire, comunque tenere anche i piedi per terra penso che le radici ci riportino comunque sempre al luogo dove siamo nati è come un cordone umbilicale che in qualche modo non si spezza mai anche se le persone hanno percorsi diversi ci sono persone che magari non sono mai andate via dal proprio paese oppure gente che va in lungo e in largo per poi tornare però è bellissima questa cosa che tu hai potuto fare, quello che dicevi è poter andare, poter tornare in questo posto che poi è diventato anche un po' tuo anche se non sei nata proprio qui però comunque il legame forte è anche immaginare dove è nato mio padre che tipo di infanzia ha vissuto in qualche modo arriva anche a me, fa parte di me anche se attraverso di lui quella stessa piazza dove lui magari correva con i suoi amici con i suoi amici bambini che abbiamo conosciuto anche sto parlando di Ascoli Satriano in questo caso la casa di mia nonna dove sono nati molti dei miei zii tra cui mio padre che poi si affacciava su questa chiesa dove chissà quanti matrimoni, battesimi, anche funerali sono passati di lì e tra l'altro poi quest'anno hanno fatto il film Ti mangio il cuore è stato girato proprio ad Ascoli Satriano devo dire che questa Puglia non solo negli ultimi anni è emersa in una maniera incredibile ma anche attraverso il cinema viene raccontata sempre di più diciamo che sicuramente questa parte di Puglia cioè l'entroterra rispetto al Salento ha ancora un potenziale enorme che deve esplodere si sta riscoprendo, è bellissima questa cosa che hai detto perché appunto noi portare il cinema qui è stato portare una cultura che magari effettivamente qui non si pensava di poter avere il cinema, averlo di nuovo finalmente qui è una cosa bella questo magari è un inizio negli ultimi tempi però magari chissà è stato un inizio che sicuramente sarà in ascesa io a volte quando penso a mio padre appunto che che forse non si sarebbe mai immaginato di avere la vita che ha avuto nel senso però a un certo punto penso che ha creduto in un sogno e a volte credere nei sogni fa bene perché non bisogna porsi i limiti anche quando o no ci potrebbero essere mille alibi o mille giustificazioni tu l'hai fatto fai questo nel senso tu sei una figlia d'arte però eppure c'è stato qualcosa che ti ha spinto a dire io sono violante e placido voglio fare l'attrice c'è stato un personaggio che magari ti ha ispirato ad oggi che ti ha detto io voglio fare questo al di là magari di Michele Placido che conosciamo bene per la sua carriera brillante ma io vabbè io da piccola il mio mito era Marilyn Monroe quindi io ci sono anche un po' di tratti c'è qualcosa effettivamente io quando ero piccolissima appunto sognavo attraverso di lei di fare l'attrice e la cantante perché lei in tanti suoi film poi negli anni 50 si usava tantissimo fare questi film un po' in bilico tra musical e film lei cantava spesso quindi era il mio gioco preferito da bambina c'è chi gioca a fare le bambole e chi a fare per il libro ma io penso che tutti i bambini sognano di fare la ballerina l'attrice la cantante perché comunque sono lavori che ci permettono di esprimerci in piena libertà e quindi tutti c'è un momento della vita in cui sognano di fare questo poi magari hanno altri percorsi che sentono più consono io posso dire che poi crescendo durante l'adolescenza in realtà mi sono un po' allontanata da questo sogno forse proprio nel momento in cui ho capito che mio padre faceva l'attore che stavo in una famiglia di attori perché poi il successo di mio padre l'ha portato sempre più lontano dalla famiglia quindi in realtà a me questa cosa l'ho vissuta in una maniera che era un po' distabilizzante anche la sua popolarità quando è esplosa esatto come l'hai vissuta? non l'ho vissuta bene no non l'ho vissuta bene perché comunque un bambino pensa ad avere il papà tutto per sé e invece poi dopo lo devi dividere con tante tante persone e anche e anche un po' appunto c'è stata un'assenza che comunque da bambina ho sentito poi vabbè diciamo che il cinema quando mi è venuto incontro perché appunto io mi sono un po' allontanata in realtà il cinema in qualche modo ha bussato la mia porta e quindi lì è stata una scoperta nel senso che io avevo rimosso questo desiderio pensavo ad altro però sono sempre stata una persona curiosa quindi e la curiosità che poi ti ha avvicinato anche la musica la curiosità sì la musica è sempre stata una mia passione però è stato anche qualcosa di cui mi sono privata perché non mi sentivo adatta pensavo che che non era non avevo il talento necessario non ti senti adatta tu no però questo sai tante persone a volte si privano di qualcosa perché pensano non lo so forse non hanno abbastanza autostima non non si permettono di provare qualcosa io dico sempre è meglio provare se qualcosa ti incuriosisce provala poi magari scopri che può essere la tua strada così come magari no però diciamo che appunto io la musica poi ho iniziato a viverla tardi verso i 22 anni e quindi invece tu stai bene con me che è il tuo ultimo singolo si si allaccia anche a questa cosa abbiamo abbiamo tirato fuori perché appunto tu hai debuttato come musicista già qualche anno fa ho letto qualcosa hai scritto un album la musica è un percorso che ho vissuto molto a singhiozzo cercando di barcamenare mentre a cinema è musica però continuo a farla perché per me è ossigeno puro però voglio fare un passo indietro perché voglio riparlare un po' di Puglia cioè praticamente quando il cinema mi ha bussato la porta io diciamo che ho esordito con questo film Jack Frusciante che era tratto da un libro che aveva avuto un successo importante e feci questo film poi dopo anche lì non avevo ancora capito di voler fare questo lavoro quindi ho dovuto così fermarmi farmi due domande ho capito sicuramente che questo lavoro ti può anche capitare a volte per fortuna ci sono anche persone io magari sono fortunata perché sono figlia d'arte però ci sono anche persone che a volte dal nulla si ritrovano dentro a un film poi da quel momento in poi tu devi fare qualcosa di attivo cioè devi avere gli strumenti in mano per poter percorrere questo percorso e quello è importante dove tu metti anche il tuo anche se puoi essere fortunato e niente quindi mi sono anche fermata ho viaggiato ho fatto corsi di recitazione di chitarra infiniti anche per corsi di vita proprio dove ti chiedi chi sei e veramente cosa vuoi fare per tornare e fare questo provino con Sergio Rubini che quello ecco l'anima gemella con Sergio io lo chiamo diciamo il mio esordio consapevole esordio consapevole perché? perché il primo non l'avevo scelto io in quel momento però mi sono buttata con Sergio avevo detto sì voglio fare l'attrice ti ha dato questa risposta mi ha data e poi da lì diciamo è cominciato il mio percorso però quello penso che sia un film che è veramente un gioiellino girato tutto in Puglia e Sergio ecco ha voluto raccontare una commedia entrando un po' nel folklore nel lato magico della Puglia tutto il discorso diciamo anche della scaramanzia degli atti magici e tu ci credi che rapporto hai con queste cose perché noi qui siamo un po' sì c'è per scaramanzia che ne so io tipo porto sempre gli stessi orecchini magari non li tolgo perché poi ho paura che non mi va bene una cosa in realtà sono molto legata a queste cose guarda è indiscutibile però all'inizio ero ero più scaramantica però poi crescendo ho deciso che insomma nella scaramanzia in realtà noi mettiamo tutte le nostre insicurezze quindi se tu sei insicuro di qualcosa ti attacchi a quella cosa lì e dici no adesso mi andrà male oppure mi è andata male per quella cosa lì invece dobbiamo secondo me dobbiamo liberarci di questo però comunque devo dirti che se mi passa un gatto nero prima di uno spettacolo io so che so che bisogna fare retromarcia devi passare in retromarcia allora così quindi si può evitare la se non passa nessuno prima di te devi andare attraversi in retromarcia allora sconfiggi la sfiga in quel caso lì però ecco quella è una Puglia stupenda fatta di di colori stupendi di una luce pazzesca io ecco qui in Puglia una cosa che amo ma che ama anche mio padre cioè mio padre nonostante il lavoro l'abbia portato in lungo e in largo come lui ama la sua Puglia non ama nient'altro come lui si rigenera passeggiando tra il silenzio degli olivi il fruscio del grano cioè per lui quella è una ricarica pazzesca un ritorno alle origini e anche io sono molto legata alla terra proprio la natura quello che ci ridà la natura una cosa che amo di questa parte della Puglia è la luce cioè una luce spettacolare una luce che veramente ti rincuora l'animo e ho sempre pensato che potrebbe essere una terra per costruire degli studi cinematografici come Hollywood perché Hollywood è tutta piatta e gli studio sono stati fatti lì perché c'è una luce che dura più che in altre città e qua devo dire che c'è questa stessa qualità qui c'è una luce incredibile e un mio sogno non sarei in grado di progettare una cosa del genere non sono un'imprenditrice non ho quest'animo però mi piacerebbe da morire immaginare degli studio in questa zona qua anche perché la Puglia ripeto sta sfornando un sacco di film qualcuno ci deve pensare lo dovrebbe fare secondo me unire un po' di forze non so magari questo è un inizio chissà forse fra qualche anno diremmo ma Violante l'aveva già pensato qualche anno fa magari ma poi verrebbero anche dall'estero a girare qua perché secondo me c'è tanto spazio innanzitutto quindi lo spazio per fare questo c'è insomma io anche io di riflesso insomma ho voglia di vedere questa Puglia proprio fiorire ed esplodere mi piacerebbe tantissimo un po' mio padre lo sta facendo anche sta mettendo del suo e questa cosa la condivide con noi figli attraverso il vino perché appunto è vero le cantine Placido Volpone voi appunto siete legati a questo territorio avete questo questo vino questo incontro con questa cantina di Volpone esatto amici loro sono amici da sempre questo era un pallino che aveva mio padre alla fine ci siamo uniti con loro e è qualcosa che appunto vuole lasciare anche a noi figli proprio per tenerci legati a questa terra e ai suoi frutti direi e appunto qui insomma ci sono tante vigne anche il vino è cultura perché comunque tu attraverso il vino racconti un territorio attraverso i sapori rimani dentro le persone regali qualcosa che diventa un ricordo in altre persone che magari non vengono da qua e che ne parlano e trasmettono questo messaggio ad altri e poi sta andando anche benissimo come come produzione di vini la vostra sì insomma bisogna crederci perché comunque appunto niente arriva subito così poi se uno si siede a un sogno e dice eh lo so ma che faccio adesso apriamo l'etichetta con tutte le etichette che ci sono in Italia con tutte le persone che sono affezionate a determinati vini cioè è sempre una sfida niente non puoi dare mai niente per scontato però se c'è la passione se c'è un sentimento autentico nel tuo sogno che in questo caso è il vino ma qualunque altro che sia e non molli secondo me da qualche parte arrivi guarda è proprio per questo c'è in questo momento visto che hai realizzato tantissime cose un sogno qualcosa che senti che è lì per te che vorresti prendere in questo momento perché la tua carriera è brillante appunto cantante attrice hai fatto tantissime cose ma c'è ancora qualcosa che vorresti realizzare in questo momento guarda in questo momento magari in questa terra così bella possiamo esprimere un desiderio chissà magari sia vera sicuramente vorrei girare un altro film qua prima possibile poi detto questo comunque adesso diciamo che ho un sogno che si realizzerà perché quest'anno farò teatro torno a teatro e quindi devo dire che i miei pensieri sono diretti lì perché inizio ad immaginarmi come potrà essere questo spettacolo l'incontro con gli altri attori il teatro è bellissimo perché comunque ti mette in contatto con le persone viaggi l'Italia l'Italia è stupenda perché io da piccola ho avuto la fortuna di viaggiare molto sempre fuori dall'Italia e adesso che sono più grande mi rendo conto realmente di che gioiello è questo paese non solo perché lo si dice ma perché veramente è un paese incredibile perché dal nord al sud ovunque ogni piccolo paese ha una sua particolarità che può essere dall'arte da una chiesa dal cibo cioè qualcosa che puoi mangiare solo in quel posto lì qui ce ne abbiamo tante di cose che possiamo mangiare tra l'altro qui a Stornara una cosa che mi è piaciuta molto perché come dicevi tu tu stai bene con me torniamo lì io ho girato questo videoclip di una canzone che è uscita l'altra estate l'ho girata insieme al mio compagno e alla fine abbiamo deciso di venirlo a girare in Puglia tu ci hai tenuto fortemente a girarlo qui in Puglia tu stai bene con me e tu l'hai fatto in casa tua sì praticamente l'ho fatto a Stornara proprio qua dietro e abbiamo siamo stati accolti a braccia aperte veramente si sono messi totalmente a disposizione ed è stato fantastico tra l'altro c'è stato il tuo aiuto Sharon Sharon pure ha mille talenti e tanti sogni nel cassetto ed è veramente una ragazza instancabile ci ha aiutato tantissimo ha gestito tutte le comparsi ha trovato i ragazzi dirigeva i ragazzi perché abbiamo fatto questo video che si ispira a un film di Marco Ferreri degli anni 60 si intitola La donna scimmia e è una storia molto spietata perché parla di questa donna poverina che nasce ricoperta di peluria e che però ha un po' la vergogna del paese quindi viene tenuta nascosta tipo in un ospizio come se lei non meritasse un posto nel mondo perché è la vergogna di tutti oggi invece la società è un po' cambiata cioè la cosa che viene detta il messaggio è che la diversità ci rende unici quindi ha voluto fare una provocazione con questo video è stato un po' in quel film lì in realtà quel film lì voleva raccontare quanto la società fosse cinica e spietata a partire dal singolo noi gli abbiamo voluto dare una connotazione così legata invece all'emancipazione dal giudizio degli altri da quello che gli altri vogliono farti credere che tu sia o quello che gli altri ti dicono di essere no? questa donna barbuta invece il video inizia con una sorta di atto psicomagico insieme al suo innamorato e finalmente si liberano di tutta la vergogna e decidono di prendere in mano le loro vite si sposano e portano a testa alta la loro scelta di vita il loro amore e il paese era importante perché il paese comunque è un microcosmo come se no? tu racconti puoi raccontare anche una società molto più grande però la vedi con la lente di ingrandimento quindi nei paesi è tutto più piccolo tutto più concentrato quando la gente mormora o ci sono i pettegolezzi è una cosa che piano piano gira e diventa come è contagiosa no? se tutti iniziano a guardarti storto tutti fanno greggie e iniziano magari a emarginare quelli che possono sembrare i più deboli o i diversi insomma ci serviva il paese ci serviva questa realtà ci serviva una luce stupenda e quindi qui hai trovato tutto ciò siamo venuti qua e abbiamo fatto questo matrimonio questo pranzo insomma in mezzo alla campagna con con bambini con persone che festeggiano il matrimonio tipico che si convincono che questi due si amano e che meritano la felicità ecco e a questo punto ce lo fai ascoltare il tuo brano? sì quindi tu stai bene con me tu stai bene con me la regia di Massimiliano De Piro il mio compagno che è qui e e c'è anche il piccolo Vasco che è mio figlio che ha debuttato in questo video che vedrete qua ora solitamente suono e il video è dietro di me farete un po' ping pong però vabbè ci ascoltiamo Violante Placido quando è partito fa un segno rosso fuoco come stelle di mare limpido al sapore di sale romantico anche senza parole come ci piace fare l'amore come ci piace fare l'amore tu stai bene con me non ti chiedi neanche il perché tu stai bene con me non ti chiedi neanche il perché fermare il tempo respirare lento cogliere ogni momento senza paura di naufragare oh oh come è profondo il mare oh oh come è profondo il mare tu stai bene con me non ti chiedi neanche il perché tu stai bene con me non ti chiedi neanche il perché tu oh 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 quanto silenzio dopo un tipporale sono qui vieni mi a baciare senti ora il battito del mio cuore come amplifica l'amore come amplifica l'amore tu stai bene con me non ti chiedi neanche il perché tu stai bene con me non ti chiedi neanche il perché tu stai bene con me tu stai bene con me non ti chiedi neanche il perché 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 tu stai bene con me perché tu perché tu perché tu stai bene con me stai bene con me stai bene con me grazie grazie sì sì l'abbiamo vista infatti vedevo tutti così violante è veramente un piacere ascoltarti ed è stato un piacere per noi averti qui con noi quindi noi vorremmo premiarti a farlo è proprio il sindaco che è Massimo Colia io poi vorrei personalmente ringraziarti e farti complimenti perché oltre ad essere un'artista strepitosa sei una grande persona e quindi noi siamo onorati di averti qui ma soprattutto io lo sono di riuscire a parlare in questo modo con te grazie buonasera benvenuti a casa vostra buonasera buonasera a tutti un saluto ovviamente a tutti i presenti in particolare ai nostri illustri e graditi ospiti è un piacere è un onore come amministrazione siamo qui in effetti il sindaco la vice sindaca per consegnare questo premio perché è una donna diciamo del nostro una figlia della nostra terra violante in realtà ovviamente per noi come dicevo è un piacere perché viene in un contesto importante perché una manifestazione come questa di questa sera del festival del pensiero in una piccola realtà non è facile da realizzare e Stornarella dobbiamo dire non si accontenta di fare le cose semplici perché abbiamo il festival del pensiero a luglio vogliamo vogliamo sempre fare le cose un po' più complicate tant'è vero che dopo il festival del pensiero avremo a luglio il festival del jazz dove avremo un ospite di fama internazionale un trombettista italiano e fligornista Paolo Fresu dove solitamente diciamo lo trovi nelle grandi realtà che economicamente hanno diciamo una capacità di spesa differente ma noi lo vogliamo fare perché come comunità siamo convinti che queste occasioni diventano delle occasioni esclusive di conoscenza per chi vi partecipa di ispirazione di confronto e quindi tutti quelli che hanno la possibilità in queste piccole realtà poi lo fanno in maniera diretta con chi è sul palco quindi cade quel filtro che solitamente diciamo o quel distacco che ci sta di solito quando non lo fai live diciamo così per questo noi siamo testimoni con la nostra presenza di quello che ho appena definito di dire ci teniamo che continui in effetti abbiamo patrocinato e contribuito anche diciamo in parte economicamente sicuramente l'assessore alla cultura che si è spesa anche per per questo vorrà sicuramente dire qualcosa grazie sindaco mia socio ai tuoi saluti ai tuoi ringraziamenti per i promotori e gli organizzatori di questa bellissima Kermess culturale un evento che è veramente tanto atteso dalla cittadina dalla nostra comunità per tutto il lustro che le dà una comunità che però ha un orde al vero è veramente vivace si è appena concluso un mese un intero mese di eventi culturali l'abbiamo chiamato il maggio dei libri Stornarella città che legge perché Stornarella ha ricevuto la meravigliosa qualifica per il secondo bienio consecutivo di città che legge dal ministero della cultura è stato un mese di eventi voluti fortemente e organizzati da tutte le realtà del nostro territorio dall'amministrazione comunale dalle tante associazioni del nostro territorio e soprattutto dalle nostre scuole sono tutte il fiore all'occhiello di questo territorio e quindi l'auspicio che io voglio fare agli organizzatori e promotori di questo festival è che comunque possa continuare a crescere possa arricchirsi di nuove ispirazioni di nuove intuizioni di nuove idee di nuovi progetti anche grazie all'apporto delle scuole in questi nove anni ho imparato una cosa non c'è stata una sola occasione in cui le scuole abbiano fatto mancare il proprio apporto la propria collaborazione attiva e soprattutto il loro apporto contributivo veramente importante veramente arricchente per ogni situazione per ogni situazione quindi io mi taccio passo la parola di nuovo al sindaco e di nuovo complimenti a tutti allora a Violante Placido il premio Radici per aver contribuito a dare lustro alla propria terra con il suo lavoro stornare alla 3 giugno 2023 grazie grazie e complimenti a voi davvero per quello che fate buonasera a tutti buonasera grazie Violante purtroppo proprio dobbiamo salutarti noi ti terremo qui per ore in realtà quindi grazie 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 buon proseguimento grazie Sharon lascio un attimo i fiori perché adesso è arrivato il momento del prossimo ospite di questa serata che è Antonio Laronga procuratore aggiunto della Repubblica presso la procura di Foggia e a mediare l'incontro sarà la giornalista Anna Piscopo a dare ancora più lustro a questo festival siamo ancora una volta tanto tanto onorati quindi buonasera a tutti e vi lascio buonasera a tutti un applauso per il dottor Antonio Laronga procuratore aggiunto della Repubblica di Foggia io mi presento brevemente sono Anna Piscopo lavoro nella redazione giornalistica di Radio Norva e collaboro con Repubblica Bari per me è un grandissimo piacere un onore dialogare con il dottor Laronga e adesso lo capirete anche voi perché poco prima di iniziare abbiamo fatto un'intervista che verrà pubblicata appunto sul giornale e io l'avrei ascoltato per ore più che un'intervista era una vera e propria un vero e proprio insegnamento come cittadina prima che come giornalista che il lavoro che provo a fare con piacere da qualche anno si è parlato fino adesso di sogni di bellezza ecco io continuerei su questa scia perché attraverso il libro la quarta mafia del dottor Laronga noi vogliamo anche parlare di sogni e di bellezza di come come cittadini e come società civile possiamo dare il nostro contributo ad un fenomeno in un fenomeno nel contrasto meglio di un fenomeno come quello della mafia una quarta mafia viene definita così la mafia che afferisce al territorio foggiano una mafia cruenta criminale variegata l'ultima relazione della direzione investigativa antimafia che ogni sei mesi pubblica questo rapporto sullo stato delle mafie in Italia ci dà il ritorno anche di una situazione pugliese in particolare noi siamo appunto in un territorio stupendo come questo di Stornarella ma in generale del Gargano della Capitanata molto variegato e molto attivo dal punto di vista appunto delle azioni delle azioni finali una mafia definita definita rurale arcaica nei modi di agire e di affermarsi sul territorio che però negli ultimi anni sta dimostrando un vero e proprio salto di qualità diventando sempre di più una mafia imprenditrice ma che cosa significa come cittadini noi che cosa possiamo fare nel contrasto di questo fenomeno che ci riguarda tutti grandi e piccoli agricoltori o imprenditori insegnanti o cantanti ci riguarda tutti perché siamo siamo cittadini prima di tutto e il libro La Quarta Mafia che mi invito a leggere ci insegna proprio questo dalla genesi della di questa forma criminale all'evoluzione che sta avvenendo ci mette anche in guardia rispetto a una non sottovalutazione di questo territorio tanto è vero che noi abbiamo avuto il procuratore nazionale antimafia Caffiero De Rao il ministro dell'interno che non pochi mesi fa è stato è stato a Foggia che cosa significa allora perché i riflettori sono puntati su questo territorio perché è così pericolosa ed è stata definita già da un po' di tempo un'emergenza nazionale questo tutto questo adesso lo scopriamo con il dottor Naronga che incomincio subito a intervistare con questa domanda lei è un magistrato antimafia lo fa da 30 anni quindi conosce il territorio benissimo e dalla sua viva voce adesso sentiremo delle cose molto interessanti cosa significa essere un magistrato antimafia in un territorio in cui ci sono a partire da Foggia comuni sciolti per infiltrazioni mafiose buonasera grazie per l'invito e complimenti agli organizzatori di questo festival che è particolarmente interessante io francamente pur vivendo in questo territorio da molti anni come dire ne ignoravo l'esistenza quindi invito gli organizzatori a come dire a farlo conoscere perché veramente è una bella realtà di questo territorio dunque la quarta mafia è la definizione dei clan mafiosi della provincia di Foggia in particolare la storia giudiziaria di questo territorio ci consente di individuare quattro aree geocriminali nelle quali sono allocati i clan mafiosi della provincia di Foggia quando uso la parola clan mafioso uso questo termine in senso tecnico perché si tratta di organizzazioni criminali non di pecorai o di gangster sono associazioni mafiose che hanno il bollino DOC sono certificate con sentenze definitive passate in giudicato di condanna per associazione mafiosa articolo 416 bis del codice penale e la provincia di Foggia è un territorio infestato da queste organizzazioni ne sono tante non si deve parlare di mafia foggiana ma di mafie foggiane ci sono quattro aree geocriminali la prima è quella del capoluogo di provincia dove c'è la società foggiana la società foggiana che è diciamo una organizzazione composta da diverse batterie le batterie sono le unità di base della società della mafia foggiana poi c'è la zona del Gargano la mafia garganica ed è appunto tutta la zona del promontorio garganico in questa zona del territorio ormai da anni opera un clan mafioso particolarmente violento cruento che è riconducibile alla famiglia Libergolis di Monte Sant'Angelo poi c'è una terza area geocriminale che è quella del basso tavoliere la mafia cerignolana la zona appunto di Cerignola ma anche diciamo questi territori Stornara Stornarella sono appunto territori nei quali operano i clan della mafia cerignolana e anche la mafia cerignolana è stata accertata come mafia processo cartagine il primo processo risalente agli anni 90 dello scorso secolo accertò appunto la ferocia e la natura mafiosa del clan Piarulli Ferraro e Mastrangelo qualche anno dopo ci fu un altro processo il processo Halloween che riconobbe la natura mafiosa del clan Taddone la famiglia di Tommaso di Cerignola e poi c'è una quarta area geocriminale che è l'area dell'alto tavoliere Sansevero la zona di Sansevero e anche lì diciamo ci sono dei clan che attualmente sono appunto stati qualificati come associazioni di tipo mafioso quindi lavorare in questo territorio significa lavorare in un territorio infestato dalle organizzazioni di tipo mafioso e quindi tutto questo rende estremamente complicato il lavoro sia delle forze dell'ordine sia dei magistrati e rende estremamente difficile la vita per gli imprenditori commerciali per diciamo le amministrazioni comunali per diciamo le imprese per i professionisti significa confrontarsi quotidianamente con criminali feroci che stanno però cambiando quali sono i maggiori canali di approvvigionamento di queste mafie perché a questo punto noi dobbiamo assolutamente parlare al plurale quali sono le maggiori fonti di investimento allora le organizzazioni criminali di tipo mafioso non solo quelle foggiane ma quelle nazionali in genere ma anche quelle foggiane e lo vedremo di qui a brevissimo hanno cambiato strategia negli ultimi vent'anni ormai le mafie sparano poco e corrompono di più dialogano preferiscono comprare le persone non ucciderle perché quando tu uccidi una persona fai rumore quando tu metti una bomba fai rumore e quindi la comunità lo stato reagisce le mafie oggi stanno non è proprio oggi già da molti anni negli ultimi vent'anni sono cambiate hanno cambiato il loro metodo di azione preferiscono appunto agire sotto traccia in modo appunto clandestino attraverso il dialogo attraverso la collusione con appunto il mondo dell'impresa con il mondo istituzionale tutto questo lo stiamo notando anche riguardo alle mafie foggiane e di questo che vi sto per raccontare ci sono appunto segnali molto come dire probanti in particolare ci sono organizzazioni criminali che reinvestono il denaro che proviene la liquidità infinita che proviene dal traffico di droga che proviene dalle rapine milionarie che proviene dall'usura dall'estorsione dal contrabbando ecco questa liquidità viene reimpiegata nella economia legale del territorio attraverso appunto il riciclaggio guardate il riciclaggio di denaro sporco è il principale canale di contaminazione tra l'economia illegale e l'economia legale il queste organizzazioni criminali stanno investendo in attività commerciali bar ristoranti lidi b&b imprese varie e in questa in questo settore in questa economia legale ci mettono il denaro che proviene dal traffico di droga è un modo appunto per come dire raddoppiare moltiplicare il business per moltiplicare appunto gli introiti però è un modo estremamente pericoloso per il nostro presente e soprattutto per il nostro futuro perché l'ingresso della mafia nella economia significa appunto fine dello sviluppo democratico di un territorio ecco perché bisogna stare molto attenti alle organizzazioni criminali di questo territorio che stanno cambiando la corruzione quindi è una forma sempre più dilagante come cittadini ecco come possiamo noi contrastare questo perché l'azione della magistratura appunto è un'azione anche repressiva ma come lavorare un po meglio di più sul fronte sul fronte culturale come ha detto lei quando ci sono i grandi omicidi l'attenzione portano questi portano qui grandi nomi diciamo delle istituzioni anche nazionali quindi se ne parla il tam tam sulla stampa nazionale anche internazionale si accendono i riflettori dopo un po' si spengono e si ritorna tra virgolette al quieto al quieto vivere ma nella quotidianità di chi ci lavora di chi qua ha un'impresa ha una lavanderia ha un bar e si vede arrivare il mafioso di quartiere si sente quasi più protetto da lui che dallo stato questo è un fenomeno che abbiamo riscontrato in tutta la regione guardate non è parlare di mafia a mio avviso dicevamo prima non è parlare di una zona di un settore dando quasi un marchio uno stigma è un corpo funzionale cioè sono diversi tentacoli di un unico sistema che è quello delle mafie a livello transnazionale possiamo dire come cittadini ripeto come lavorare sul fronte culturale allora bisogna vi faccio degli esempi concreti vi cito due recenti operazioni della direzione distrettuale antimafia tutto quello che dico è documentato io adesso farò nomi e cognomi in modo tale da evitare con mence non si tratta di opinioni mie si tratta di dati di fatto operazione omnia nostra mercato ittico di Manfredonia operazione grande carro società foggiana che cosa viene accertato nella operazione omnia nostra quello che vi dico prescinde dalla colpevolezza in sede penale sono dei dati storici di fatto a Manfredonia non funzionava il mercato ittico comunale quindi il mercato del pesce era gestito da grossisti che acquistavano il pesce dei pescatori la marineria di Manfredonia è una delle più grandi diciamo della Puglia ha oltre 250 imbarcazioni iscritte quindi i pescatori portavano il pesce e lo vendevano ai grossisti e poi i grossisti servivano diciamo il mercato non solo quello di Manfredonia mercato di tutta la Capitanata che è una regione la provincia di Foggia ha 7000 km2 è più grande della Liguria è più grande del Molise è più grande diciamo è una regione la mafia la mafia garganica in particolare alcuni esponenti della mafia garganica Matteo Lombardi Pietro Latorre Pasquale Ricucci quest'ultimo assassinato nel 2019 durante le indagini acquisiscono il controllo di due società di Manfredonia una che gestiva il pesce l'altra che gestiva i frutti di mare e acquisiscono il controllo del mercato ittico di Manfredonia cioè i pescatori dovevano per forza dare il loro il pescato a queste società altrimenti dovevano chiudere tutto questo capite che va ad inquinare ovviamente loro gestivano non solo il mercato del pescato ma anche di tutte le attività diciamo strumentali quindi la vendita delle cassette di polistirolo la vendita del ghiaccio e così via chi non cedeva il pescato a queste società non poteva più pescare c'è una intercettazione in cui Pietro Latorre dice il mare è nostro allora tutto questo capite che come inquina il sistema economico quel settore economico fondamentale per una città come Manfredonia è una città di 60.000 abitanti perché loro decidevano il prezzo quindi tu non potevi vendere ad un prezzo diverso non potevi vendere ad un altro soggetto erano loro che gestivano il mercato del pesce secondo esempio operazione non vi dico poi tutte le operazioni di riciclaggio perché tutti i proventi derivanti da questa attività venivano reinvestiti in diciamo una serie di attività per esempio attività di ristorazione adesso rispondo alla domanda che cosa possiamo fare tutto questo è stato reso possibile grazie alla compiacenza di una serie di persone della società civile commercialisti un geometra un imprenditore perché questi sono dei trogloditi hanno bisogno di dei colletti bianchi che per poter diciamo reinvestire questo denaro per poter fare queste operazioni cioè per poter comprare intestare fittiziamente una società ad un prestanome hanno bisogno appunto del commercialista del geometra dell'avvocato dell'architetto del colletto bianco che si mette a disposizione quindi che cosa possiamo fare non metterci a disposizione capire metterci diciamo mettere come si dice mettere mettere una scrivania tra noi e loro non mettersi a disposizione a proposito del volevo finire con l'esempio dell'operazione grande carro l'operazione grande carro è un'operazione che ha permesso e ancora subiodice la vicenda però vi racconto il dato di fatto quello che vi dico ve lo racconto come dato di fatto poi se sarà reato o non sarà reato lo decideranno i processi magistrati che si occupano di questa vicenda ma il dato storico è questo viene contestata l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso armata composta da più di dieci persone con a capo due persone che si chiamano uno Donato Dell'Icarri e l'altro si chiama Francesco Dell'Icarri sono fratelli Donato Dell'Icarri è la persona che ha ucciso Panunzio Giovanni Panunzio è il killer di Giovanni Panunzio il 6 novembre 1992 chi di voi segue questi temi sa che a Foggia è stato ucciso un imprenditore edile che si chiamava Giovanni Panunzio il nome di questa persona è famosa è famoso per questo motivo che vi sto per dire perché si era rifiutato di pagare il racket perché è famoso Giovanni Panunzio perché appunto grazie alle indagini conseguenti all'omicidio Panunzio è stato imbastito il primo processo antimafia nella storia giudiziaria di questo territorio processo che si è chiuso nel 1999 quindi oltre vent'anni fa con il primo riconoscimento nella storia giudiziaria di questo territorio di un'associazione mafiosa dell'associazione mafiosa per la mafia foggiana questo donato dell'icarri che è la persona che ha ucciso Panunzio gli ha sparato è stato condannato a 26 anni e mezzo ha scontato la pena è uscito dal carcere e adesso fa l'imprenditore fin qua niente di male perché il carcere serve appunto come dire a rieducare si è trasferito a Rimini vive a Rimini in Emilia Romagna e fa l'imprenditore il problema è come lo fa l'imprenditore perché non è che fa l'imprenditore come lo fanno gli imprenditori normali fa l'imprenditore in un certo modo secondo l'impostazione accusatoria usando il metodo mafioso il metodo mafioso consiste nella intimidazione ecco e allora che cosa fanno questi imprenditori o pseudo imprenditori non fanno solo impresa come dire in modo mafioso cioè estorcendo in particolare nell'operazione grande carro l'estorsione è stata attuata nei confronti degli imprenditori che hanno realizzato e che gestiscono il parco eolico di Ascoli Satriano parliamo di grandi imprese di grandi imprese ecco tutte queste imprese sono state costrette a pagare il pizzo a questa associazione chi non pagava gli incendiavano le gru incendiavano sparavano i colpi alle vetrine danneggiavano i mezzi eccetera ma fin qui nulla di normale perché la mafia è questa no la mafia è intimidazione la mafia moderna però e questo è l'aspetto che ci deve allarmare non è più solo questa anzi direi non è questa perché la mafia moderna non vuole sparare spara diciamo solo proprio nei casi in cui è estremamente necessario come estrema razio che fa questa associazione inventa grazie alla complicità di commercialisti tecnici imprenditori eccetera un sistema per frodare l'unione europea le frodi in agricoltura e ottiene milioni di euro senza sparare un colpo questi milioni di euro dove finiscono finiscono in alcune società non solo italiane ma anche estere per esempio è stato acquistato un complesso immobiliare del valore di 600 mila euro a Praga nella Repubblica cieca è stata creata una società a Modena che si chiama Oblo SRL che gestisce una serie di beni immobili e una serie di attività di ristorazione lungo la costa romagnola ecco che cosa dobbiamo fare noi cittadini ho già detto quello che devono fare i cittadini che hanno la sventura di imbattersi in questo ma le amministrazioni comunali chi riveste cariche pubbliche sapete l'istituto lo scioglimento dei comuni per mafia è un istituto giuridico introdotto nel nostro ordinamento nel 1991 dal 1991 fino al 2015 non è mai stato applicato in provincia di Foggia c'erano state centinaia di applicazioni eppure la mafia c'era vi ho detto la mafia l'omicidio Panonzio nel 92 negli anni 90 sono stati celebrati tanti processi di mafia il processo Day Before il processo Iscaro Saburo alla mafia Gargani il processo Cartagine ai Cerignolani eppure mai le amministrazioni comunali sono state sciolte per mafia dal 2015 inizia uno stillicidio il primo comune ad essere sciolto Monte Sant'Angelo poi Mattinata poi Manfredonia poi Cerignola poi Foggia Foggia è il secondo capoluogo di provincia dopo Reggio Calabria ad essere sciolto per mafia poi Trinitapoli e adesso non so c'è Orta Nova che è qui a due passi sapete ad Orta Nova insomma c'è una situazione poco piacevole c'è una commissione di accesso vedremo che cosa farà non so quale sorte subirà però questo per chi analizza questi fenomeni un significato ce l'ha significa che le amministrazioni dialogano con questi mafiosi dialogare non significa essere complice si va di bene perché molti magari facendo leva sulla mancata conoscenza di questi istituti magari danno delle informazioni poco chiare all'opinione pubblica un sindaco può essere sciolto per mafia non perché è complice del mafioso a volte lo è a volte lo è capita ma anche quando è vittima quando lui non è più in grado di resistere alla pressione mafiosa quando va il mafioso in comune e dice tu o assumi questa persona o metti questa persona a fare lo spazzino oppure io ti faccio saltare la macchina è chiaro il sindaco persona magari per bene che ha paura che ha un figlio a una moglie eccetera si spaventa si spaventa non è più in grado di amministrare con imparzialità come dovrebbe fare come dice la legge in quel caso quel comune va sciolto è chiaro questo per chi analizza questi fenomeni significa ecco proprio significa che le amministrazioni cioè significa che i mafiosi stanno cambiando i loro obiettivi non esercitano non svolgono più la loro attività con un metodo con quel metodo mafioso intimidatorio tradizionale militare direi ma hanno un atteggiamento di tipo dialogico proattivo cercano di entrare nell'economia cercano di investire i capitali nelle imprese cercano di dialogare di comprare il pubblico amministratore per avere poi dopo la concessione l'autorizzazione il permesso perché se tu fai impresa c'hai un bar un lido un ristorante un albergo hai bisogno del permesso dell'impresa hai bisogno diciamo dell'autorizzazione della concessione quindi questo siamo chiamati a fare concludo mi ha detto che cosa fare attenzione bisogna aver ben chiari quali sono i propri limiti quali sono i propri doveri quali sono le regole non solo giuridiche ma anche deontologiche ed etiche chi non è in grado non si mette in mezzo chi non è in grado di amministrare stia a casa sua perché amministrare in questi territori significa saper dire di no a queste persone saper tenere lontane queste persone dal comune tenerle lontane dalle aziende a partecipazione diciamo pubblica tenere lontane queste persone se sei in grado candidati se non sei in grado stai a casa vi avevo detto che sarebbe stato un piacere ascoltarlo ed effettivamente è così prima chiedo scusa ti stavo interrompendo ma poi mi ha anticipato era esattamente il riferimento all'imprenditore a Giovanni Panunzio che miravo nel proposito di questo hai risposto perfettamente alla domanda anche in modo più completo rispetto a come l'avevo posta nel senso che cittadini cosa possiamo fare noi come società civile ma cosa possono e devono fare le pubbliche amministrazioni perché ovviamente non siamo dei corpi scollegati assolutamente e nel libro hanno spazio nel tuo libro hanno spazio anche le storie appunto di imprenditori che hanno scelto di non abbassare la testa di fatto pagando loro stessi con la vita ma anche i fratelli Luciani che si sono trovati diciamo vittime un po' inconsapevoli quando noi le definiamo vittime innocenti tutte poi le definiamo vittime innocenti di mafia loro e tanti altri nomi il loro sacrificio ad oggi è servito a qualcosa serve a qualcosa che cosa dicono questi nomi alle generazioni più giovani anche beh sicuramente il territorio dà dei segnali il territorio sta dando dei segnali soprattutto dopo il quadruplice omicidio del 9 agosto 2017 ci sono tante associazioni ci sono c'è reazione anche da parte c'è una reazione forte anche da parte della comunità civile quindi questi sono segnali di speranza è fondamentale guardate ciascuno di noi è chiamato a svolgere un compito non bisogna fare gli eroi ci vuole poco sicuramente l'attività repressiva da parte dello Stato è fondamentale anche se è molto difficile farlo in questo territorio perché vi dicevo è un territorio di 7000 km quadrati e 7000 km come dire vigilare 7000 km quadrati non è semplice occorrono molti uomini occorrono molti mezzi e non ce ne sono i tribunali sapete ce n'è solo uno il tribunale di Foggia che ha una competenza estesa non solo su tutta la provincia ma anche su una fetta di un'altra provincia la BAT la provincia appunto con i tre comuni di Trinitapoli San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia questo è molto importante quindi la vigilanza l'attività di repressione ma è altrettanto importante fare squadra altrettanto importante la risposta della società civile guardate questa provincia è una provincia molto fragile è una provincia facilmente infiltrabile da parte della criminalità organizzata non lo dico io lo dico in una serie di studi fatti sul territorio in particolare io cito sempre uno studio fatto dall'Eurispes che è un istituto di ricerca privato ma serio che ha fatto per conto della direzione nazionale antimafia nel 2021 uno studio sulle 106 province italiane per capire quali fossero le province più facilmente infiltrabili da parte della criminalità organizzata e ha stilato una graduatoria si chiama IPCO indice diciamo l'IPCO lo trovate insomma se volete approfondire il tema basta fare una ricerca su internet e scrivere IPCO e vedrete che cosa viene fuori che cosa dice che cosa studia l'Eurispes ci dice appunto il livello la fragilità del territorio ebbene la provincia di Foggia in questa poi l'Eurispes ha stilato una classifica nazionale ebbene diciamo la provincia di Foggia in questa classifica è ai primi posti al settimo posto in Italia dopo Caserta Reggio Calabria Crotone Napoli insomma Caltanissetta questi posti dove c'è una forte presenza mafiosa quindi è un territorio molto fragile è un territorio dove diciamo la mafia ha gioco facile si infiltra facilmente nell'economia nelle istituzioni e questa graduatoria è stata stilata sulla base di una serie di indicatori quali sono questi indicatori anzitutto il livello di ricchezza delle famiglie poi il mercato del lavoro il sistema del lavoro se il mercato del lavoro è garantito la struttura del tessuto imprenditoriale le imprese sono gli imprenditori sono molto deboli spesso si trovano a competere con forme di economia sommersa che li rende praticamente molto molto fragili l'offerta dei servizi pubblici il livello di illegalità generale cioè sono tutta una serie di indicatori che messi insieme ti consentono di ricostruire l'indice appunto di permeabilità del territorio questo territorio è facilmente permeabile da parte della criminalità organizzata e qual è il dato di fondo che accomuna queste province la vulnerabilità sociale quindi bisogna fare delle politiche sociali torniamo sempre là le istituzioni sia quella centrale sia quella locale devono fare politiche sociali altrimenti noi perdiamo il territorio e poi il versante educativo quanto è importante parlare di mafia quanto è importante far capire il disvalore di certi comportamenti la violenza il guadagno facile la competizione spietata sono tutta una serie di disvalori l'indifferenza ma oggi ma l'indifferenza che c'è rispetto alle forme di illegalità tutti che tutti ci giriamo dall'altra parte quanto è importante ecco per esempio fare un'opera di come dire proprio di alfabetizzazione diciamo sulle regole bisogna ecco fare questo quindi non pensare di delegare alle forze dell'ordine alla magistratura certo le forze dell'ordine alla magistratura hanno un compito difficilissimo un'attività repressiva c'è il massimo impegno ma questo non basta tutti quanti noi siamo chiamati a fare la nostra parte le istituzioni con le politiche sociali le agenzie educative con appunto questa attività di educazione di alfabetizzazione diceva Antonino Caponnetto magistrato antimafia del PUL che la mafia teme la scuola più della giustizia quindi pensate quanto è importante questa attività di alfabetizzazione siamo tutti chiamati ciascuno senza guardare agli eroi appunto a Giovanni Panunzio a Ciuffreda che sono morti per aver detto no al pizzo basta fare il proprio nel quotidiano rispettando le regole questo è secondo me diciamo un tema decisivo fondamentale io penso che situazioni come queste per esempio come il festival del pensiero siano un'azione antimafia quindi complimenti a voi che lo avete pensato e che avete invitato il nostro ospite noi siamo alle battute finali vorrei chiudere dicendo che siamo alle battute finali quindi abbiamo visto tanti canali di approvvigionamento tanti fenomeni c'è anche poi quello del caporalato che affligge un po' anche questo territorio che cosa può fare la società civile cosa fa deve fare la pubblica amministrazione la magistratura c'è un nuovo lavoro al quale stai stai pensando e dopo appunto questo libro un'anticipazione che vi possiamo dare dopo la quarta mafia ci sarà anche un altro lavoro che è incentrato su quello che stavi dicendo cioè questa collusione questo sottile confine con i cosiddetti colletti bianchi quindi tutta quella zona grigia quel sottobosco quel sottomondo che si annida che si muove si infiltra che però consente di stare a queste associazioni criminali di fatto di stare a galla l'idea c'è adesso bisogna realizzarla appunto nei ritagli di tempo che appunto il mio lavoro mi consente noi aspettiamo di presentarlo il prossimo anno non so quando grazie Antonio Laronga per la sua attività di procuratore aggiunto a Foggia grazie a voi agli organizzatori buon proseguimento di serata a tutti questo è stato veramente un valore aggiunto quindi grazie a voi è stato veramente un onore grazie e vorrei ricordare inoltre che durante la serata sarà presente nei pressi della libreria che è stata appunto allestita alle vostre spalle per l'acquisto dei libri firma copie degli autori e se volete anche porre delle domande è stata allestita a cura della cartolibreria fantasia quindi se avete qualche domanda da porre potete recarvi presso la libreria grazie e poi vorrei proseguire con il prossimo ospite della serata che è Emilio Casalini e parleremo delle radici della bellezza e a moderare l'incontro sarà Natale Labbia ciao Emilio avete i microfoni qui vi lascio a per poco buonasera buonasera a tutti buonasera a tutti bentrovati ci ritroviamo ogni anno su questo palco su questa splendida manifestazione che è il Festival del Pensiero io partecipo dalla prima edizione quindi la conosco anche nella sua evoluzione noi abbiamo assistito adesso a un momento veramente importante con il dottor che va ringraziato insieme a tutti i magistrati a tutte le forze dell'ordine per il lavoro che fanno e se posso permettermi agli organizzatori del Festival di proseguire con questi inviti perché parlarne non fa bisogna parlarne sempre però c'è anche un altro aspetto è che è quello che affrontiamo noi come appunto rispondere a questa a questo attacco della criminalità a questo attacco della bruttezza al nostro territorio e noi vogliamo rispondere con la bellezza e lo facciamo con un giornalista che in tutta la sua carriera ha sempre cercato la bellezza e ha girato il mondo e quindi conosce le parti belle e le parti brutte Emilio Casalini è stato per tanti anni inviato in moltissimi teatri di guerra dalla Serbia al Kosovo al Gabon in diverse parti del mondo poi è stato un importante collaboratore della trasmissione Report che tutti voi conoscete in cui si è occupato di tanti temi tra cui in particolare i danni ambientali a un certo punto della sua vita decide di fare altro di occuparsi di bellezza appunto e noi siamo qui per ascoltare da Emilio Casalini che cos'è la bellezza perché ti occupi di bellezza e come possiamo occuparci di noi intanto grazie perché è una bellissima sequenza questa ha iniziato Violante Placido parlando di quanto sono importanti quanto è importante capire il valore dei luoghi in cui abitiamo quanto è importante il valore del patrimonio da cui siamo circondati e che normalmente noi lasciamo andare abbastanza facilmente siamo un paese un popolo molto viziato dalla bellezza perché noi lasciamo circondati e pensiamo che non serva fare niente per valorizzarla va da sola e peccato che tutta la bellezza di cui siamo circondati è figlia di un grande lavoro di un grande impegno che è durato secoli di chi prima di noi si è impegnato si è dato da fare e la e quindi la presa di consapevolezza di questo territorio in particolare pensando che non è quel non è in questo momento famoso o noto per non so per il turismo o per quella visita dei territori come altri posti sono famosi e si connette con quello che ha appena detto il magistrato Antonio Laronga perché in questa terra si combatte si è ancora in prima linea e allora cosa bisogna fare? Non bisogna voltarsi indietro ed è connessa la valorizzazione della bellezza con questi due interventi che mi hanno preceduto perché il magistrato ci ha detto di darci da fare Valentina sì tanto male Violente Placido poco prima ha detto di darsi da fare prendere consapevolezza di quel valore che ha e fare la propria parte e io dico la stessa cosa la bellezza non è la famosa frase di Dostoevsky la bellezza salverà il mondo sì certo se il mondo salverà la bellezza ed è un qualcosa che riguarda noi tutti io mi occupo di valorizzazione dei territori e di raccontare i posti la trasmissione generazione bellezza c'è una stranissima combinazione sottolineato attualmente Emilio Casalini è autore motore conduttore della trasmissione generazione bellezza che va in onda sul Rai 3 oggi adesso è andato in onda questa sera sapete di che cosa si è occupato si è occupato della provincia di Foggia si è occupata di Foggia si è occupata di una delle esperienze che rendono la provincia di Foggia anche una provincia di bellezza qual è questa esperienza ce lo racconta Casalini quella di Giuseppe Savino che sta qui nel Foggiano che ha preso cosa dei campi semplicemente seminati a tulipani girasoli zucche dove però non c'è più la raccolta classica del contadino che va a prendere il prodotto lo porta alla grande distribuzione guadagna una miseria diventando schiavo di un percorso che lo distrugge ma diventa è stata un'attrazione forte di portare le persone a raccogliere i propri prodotti questa storia che è andata in onda ripeto è di due stagioni fa della stagione scorsa scusate è andata in onda è combinazione proprio questa sera poco fa cioè mezz'ora fa stava andando mi arrivavano dei messaggi dicendo che bella questa storia sul foggiano era lì andava in onda e parlava di un pezzo di foggia del foggiano del tavoliere che racconta la bellezza la bellezza di un territorio l'orgoglio di accogliere delle persone questo è un territorio che deve riscoprire il piacere dell'accoglienza qui arriva passa la francigena no? allora la francigena non è certo un flusso di turismo di grandissimi numeri di grandi persone con grande con grande spesa ma sono persone che intanto portano un reddito e chiedetelo a quelli del cammino di Santiago se non c'è un reddito in quel territorio ma soprattutto portano occhi anime cuori persone teste che arrivano qui e chiedono di essere accolti un territorio accogliente un territorio accogliente è un territorio dove si si sente che arrivi e sei accolto non è solo una questione di B&B o di ristoranti è un territorio che apre le sue porte chi fa il cammino di Santiago sa che non è una questione di alberghi è una questione di accoglienza e chi lo fa lascia qualcosa lascia anche economicamente ma soprattutto lascia a livello di cuore di esperienze di personalità allora se io aggiungo un pezzettino al racconto che è stato fatto in questa serata è bella questa serata che è tutto insieme sono vari tasselli di un racconto a pezzetti aggiungo questo rispetto a quello che ha detto Violante Placido e Antonio Laronga impariamo ad essere persone accoglienti anche perché ci veniamo misurati dagli occhi degli altri esattamente come quando noi andiamo in un posto e valutiamo come veniamo accolti sapete un piccolo dettaglio io dormo in un B&B qua nuovissimo si chiama Alvicolo qua dietro a 10 metri è bello è bello è fatto bene è fatto con cura e questo è già un dettaglio di un cambiamento perché se io provo ad andare in un posto e la prima cosa che cerco è dove dormo ed è un posto brutto ho delle stanze brutte non ci vado però mi do anche la risposta che quel territorio è brutto e non mi vuole accogliere perché nessuno si è occupato di cosa di accogliermi bene di creare un posto dove posso stare bene e allora non ha valore solo se c'è qualcosa interessante fuori da fare o il posto è bello perché ho fatto un bel cammino per arrivare fino a qui ogni dettaglio deve andare al suo posto al proprio posto e deve essere coniugato sulla bellezza la bellezza molto spesso farima con cura con cura delle persone con la cura che io dedico agli altri che è la stessa che io vorrei che dedicassero a me quando vado a fare il turista in un posto quando vado a fare un viaggio voglio che si prendano cura di me allora impariamo a essere un popolo accogliente per chi viene perché quella è la misura con cui gli altri ci vedranno ma è la misura anche con cui noi incominciamo a riconoscerci se siamo persone che sanno prendersi cura di chi viene dimostreremo che siamo persone che sanno prendersi cura di noi stessi è stata è veramente una strana coincidenza questa della trasmissione che va in onda quindi magari qualcuno l'ha visto in tv poi se lo ritrova in piazza e della trasmissione che è andata in contemporanea Emilio Casalini è anche lui è veneto di origini è nato a Padova e vive a Roma però da qualche tempo ha a che fare con la Puglia perché ha una relazione con una con la sua compagna che è pugliese quindi lui viene con frequenza in Puglia diverse volte non in provincia di Foggia loro vivono tra Bari e Taranto però lui attraversa la Puglia la Puglia è bella o brutta molti dicono che è bella perché è bella la Puglia qual è la bellezza intrinseca della Puglia dei pugliesi oltre al mare a quello che noi conosciamo a proposito di accoglienza perché la Puglia è la regione che ha fatto il più grande cambiamento rispetto a quello che era vent'anni fa e lo capisci da come vieni accolto oggi da quanta trasformazione c'è stata non c'è una regione che ha fatto un cambiamento così grande nella mentalità delle persone perché poi quello che si traduce in alcuni vertici massimi cioè se Borgo e Ignazia è considerato il più bello arbelgo del mondo lì c'è una scelta imprenditoriale c'è anche con una scelta molto particolare ma non è solo quello intorno si arriva a arrivare a dei picchi di qualità perché intorno c'è tutto un percorso c'è tutta una terra che cambia c'è una terra che decide di fare delle scelte anche sulla sulla qualità della vita e quindi io sono e poi c'è una caratteristica che quello che dispiace a volte ancora però non è una brutta notizia quello del potenziale inespresso di un territorio ti può far arrabbiare quando non sei al top non mi dici porca miseria quelli dove sono andati però in realtà è una grande sfida perché puoi farlo puoi farlo puoi farlo cioè e questo il patrimonio di questa terra non è stato distrutto è bloccato ancora è paralizzato è rallentato da quello che diceva anche il magistrato la ronga poco fa perché quando mi sono occupato per report del 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 parco del del gargano per esempio lì c'era un tema di abusivismo edilizio che continuava a essere operato e l'abusivismo è qualcosa che facciamo noi non sono ma ci sono persone che vanno a abitare in quelle case e l'abusivismo che si mangia le terre senza regole è un simbolo di quello che non funziona allora ed è contrario anche a quel turismo di qualità piccolo che produce democrazia dell'economia una democrazia economica perché quando tu sviluppi un piccolo turismo un turismo parcellizzato ma sano pulito quella è una perfetta lotta antimafia addio pizzo parte anche da questo dalla lotta in Sicilia dove oggi la parcellizzazione del turismo in mano alle persone e non in mano ai gruppi criminali porta un'economia sana dove le persone possono iniziare a seguire i propri sogni a proposito di questo noi abbiamo parlato adesso di bellezza come il fine da raggiungere per raggiungere questo fine c'è bisogno di un cambiamento tu nella tua vita professionale hai fatto un cambiamento radicale a un certo punto eri un giornalista affermato nella redazione più importante d'Italia dove chiunque di noi che bazzica nel mondo del giornalismo vorrebbe arrivare a un certo punto tu hai salutato i tuoi colleghi hai fatto tutt'altro hai cambiato hai messo in moto un cambiamento ci sono state paure come sono state superate che cosa possiamo dire a chi vorrebbe cambiare magari fa un lavoro che non gli piace e sogna appunto la bellezza quali sono gli attrezzi pratici la cassetta degli attrezzi del cambiamento per cosa pensi che valga la pena vivere che sembra una frase gigantesca ma in realtà è la quotidianità di tutti noi io vivevo come io davvero vivevo un'esperienza straordinaria avevo raggiunto il mio sogno per un giornalista lavorare a report è un sogno e qual era il problema che io non ero felice e questo non era un problema della trasmissione perché ovviamente era una meraviglia e il problema ero io che non ero nel posto giusto per me quindi cos'era semplicemente cominciare seguire i propri sogni significa anche fare quello che ti senti dentro e questo vale dai 12 anni ai 92 tu continui a poter inseguire appena prendi consapevolezza di quello che sei quindi ho detto 12 ma anche prima però prendi consapevolezza di quello che sei dovresti cominciare ad avere il coraggio di seguire quel talento quella componente che hai dentro e quindi fai il contadino fai il falegname fai lavori non alimentari datti da fare prova a seguire quello che hai dentro anche seguendo un sogno per realizzarlo uscire dalla bottega e combinare qualcosa di diverso Giuseppe Savino ha fatto quello quando a Biccari un'altra puntata che abbiamo fatto qui vicino a Biccari il sindaco Gianfilippo Mignogna decide di fare una cooperativa di comunità che si occupa del bosco segue un sogno e lì cosa fanno seguono il sogno collettivo e mettono delle bubble room e oggi c'è turismo a Biccari e chi è che avrebbe mai pensato di andare a Biccari a fare turismo e non c'è un posto vuoto oggi non riesci a trovare per prenotarlo seguono dei piccoli sogni io ho seguito questo ho deciso di seguire quello che sentivo dentro e che era la voglia di dare un po' di spazio alla parte creativa della mia vita perché era dentro la sacrificata se fai giornalismo di inchiesta non puoi essere creativo perché se no è un disastro è un problema quindi la parte creativa di me voleva uscire e ho deciso di lasciarla andare a quel punto cosa viene fuori che la mia vita oggi è esattamente quello che sognavo che potesse essere e l'invito è appunto a chiunque di noi di provare a continuamente rinnovare e innovare la propria esistenza per seguire i propri sogni perché poi quando funzionano oggi per esempio io conduco un programma che era quello che desideravo fare e quindi costa tanto sacrificio perché io ho giocato tutto quello che avevo non avevo idea non sapevo se ci sarei riuscito però se pensi che possa essere un valore essere felice vale la pena di provarci e poi c'è lui l'ha detta così perché i tempi sono quelli che sono però questo cambiamento lui l'ha fatto è iniziato nel 2017 e si doveva concretizzare pensate un po' a febbraio 2020 che è successo a febbraio 2020 è arrivato il covid e tutto salta come tante persone che sono partite però la determinazione però funziona e continua a funzionare e vedi c'è un altro episodio interessante che forse prima di chiudere possiamo anche citare che una parte intorno a questo percorso a un certo punto è arrivata la Sicilia e Sciacca eh no io ti volevo però prima di parlare di Sciacca io lo volevo introdurre agli amici del pubblico perché è l'ultimo tema che noi affrontiamo noi abbiamo fatto questo breve percorso come raggiungere la bellezza attraverso il cambiamento rischiando anche in prima persona però inseguendo i propri sogni e i propri desideri nella dimensione più grande questo può essere un cambiamento collettivo quindi un cambiamento che può fare un'intera comunità come può essere la comunità di Stornarella o la comunità di Ortanova e come lo è stata la comunità di Biccari Biccari noi ce l'abbiamo qui vicino è un modello Biccari ci sono i comuni vicini sia della provincia di Foggia che della provincia di Benevento che sono invidiosi di Biccari non riescono a sopportare questo successo che Biccari sta avendo e ci sono dei dati che veramente sono incredibili come questo piccolissimo comune stia crescendo Emilio Casalini ha contribuito è stato autore di un percorso di emancipazione di una comunità in Sicilia che si chiama Sciacca un posto bellissimo però come tante terre del sud pieno di difficoltà lui insieme ad altre persone adesso ci racconta questa esperienza così il cambiamento che lo diciamo anche al sindaco all'assessore agli amministratori oltre che essere individuale può essere anche collettivo esatto perché quello che abbiamo fatto che è una parte del mio lavoro è quello della narrazione però la narrazione di un territorio avviene bene solo se hai qualcosa da raccontare allora il primo processo per valorizzare un territorio è quello di far emergere la molteplicità di identità che sono presenti e a volte sono anche nascoste dietro ad un negozio dietro a una sala cinesca dietro a una casa dentro quelle case dentro queste case ci sono tantissime identità che possono essere fatte uscire allora il percorso diventa quello che abbiamo fatto a Sciacca abbiamo creato un museo diffuso valorizzando tutto quello che c'era vuol dire l'artigianato della ceramica l'abbiamo fatto diventare esperienziale il corallo è diventato un'esperienza ma la cosa bella è che c'è una comunità che si è attivata intorno a un processo per salvarsi perché c'era una crisi economica molto forte dove il turismo non funzionava più e allora ho detto ok ma perché uno dovrebbe fermarsi a dormire a Sciacca tanto si fermano a notte solo perché scendono all'aeroporto a Palermo vanno a vedere i tempi di Agrigento Sciacca a metà strada siamo nel sud della Sicilia mi fermo lì costa meno la mattina faccio colazione e vado via perfetto e allora però non va bene assolutamente no perfetto perché c'è una crisi perché non funziona il turismo perché le terme vanno chiuse eccetera dobbiamo fare in modo che le persone vengano si fermino e ok perché dovrebbero farlo è nato questo progetto del museo dei cinque sensi in cui abbiamo cominciato in sette oggi sono 150 soci di cui 28 strutture ricettive su 30 del paese bar ristoranti commercianti negozi i negozi che diventano infopoint infopoint di cosa? di quello che c'è dell'identità ma sono stati aperti dei beni comuni la chiesa delle grotte nelle grotte del Monte Cronio che erano chiuse gestite da volontari dai volontari che sono custodi dei beni comuni sono tutte le persone del paese ieri è entrato il più bravo cuoco che è un cuoco di un livello straordinario internazionale che è un piccolo ristorante e da ieri a fare il volontario aprire queste grotte dove vanno dei ragazzi dove ieri c'era una scolaresca è una comunità che si attiva e ognuno si prende la responsabilità di fare la propria parte e smette di delegare smette di dire il governo la burocrazia i problemi che ci sono però voi li avete superati perché avete avuto anche dei finanziamenti il finanziamento iniziale è stato di 120.000 euro ma oggi stiamo sviluppando la settimana scorsa sono arrivati 50 smart workers da tutto il mondo perché c'era una ditta una multinazionale e sono venuti perché hanno un posto accogliente solo in una settimana ha creato un impatto di 58.000 euro diretto a quello che hanno speso e altri 40.000 per cui un impatto di 100.000 euro solo perché sono venute queste persone sono state lì una settimana questo è economia che funziona che gira che si diffonde tra tutti quanti ma cosa hanno trovato una comunità che accoglieva gente che si andava per stare dice vieni qua indonesiano c'erano americani russi c'era di tutto arabi vieni qua anche se non fare vieni qua prenditi un caffè assabinidica si dice in Sicilia che è tipo salam aleikum vos sia sia benedetto senti che bel saluto assabinidica vos sia sia benedetto vos sia mi benedica sia benedetto la sua presenza la vostra presenza è un saluto siciliano che integra tutta la storia e la cultura di quel popolo e però essere accolti arrivare in un posto essere accolti vuol dire anche vieni ti offro un caffè e quella persona impazzisce per un caffè offerto e poi va dal ceramista e spende 500 euro per quel vaso eccetera eccetera oggi c'è una comunità che accoglie e una comunità creare le condizioni oggi è difficile creare turismo creare in posti che non sono a vocazione turistica naturale come possono essere magari alcuni posti sul Gargano eccetera ma ogni posto può essere accogliente anche con piccoli passaggi il concetto di Sciacca è un museo diffuso perché le porte sono le porte del paese le strade sono le corridoi del museo e le piazze sono le sale di esposizione perché le vetrine le porte le finestre sono le teche del museo perché quello che viene condiviso è l'identità di chi ci vive ed ecco quindi che la sfida anche di questo in questo palco il festival del pensiero quindi che pensiero possiamo avere collettivamente qui ci sono tante facce belle che ascoltano vive allora la sfida di 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 non le prendo uno tanto i nomi non è un problema e tanto lei lo sa lo sbaglio e sbaglio tutti di 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 quelli che sono che sono attivati in questo di massimo che fa il sindaco allora è una comunità che si attiva una comunità attiva oggi è l'unico strumento che può gestire la complessità perché non ce la farai mai da solo ed è inutile prendere un pezzetto non ce la possiamo fare è troppo difficile oggi gestire l'impatto economico ambientale sociale culturale come lo sviluppi oggi attivarsi e dare spazio a una comunità che si prende la responsabilità perché la comunità le singole persone devono prendersi la responsabilità di fare qualcosa ed è facile dire la parola però dopo sono quattro anni che combattiamo ogni singolo giorno anche con la pigrizia di ognuno di noi perché siamo pigri siamo un popolo che si lamenta tantissimo e che è molto bravo a dire che stiamo male 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 però in realtà sta abbastanza bene tutto sommato e questa cosa qui ci mette in questa piccola cornice in questo piccolo guscio in cui ci lamentiamo siamo bravissimi e dopo però tutto sommato può cambiare proprio se fossimo fino sotto qua con l'acqua alla gola ci daremmo molto più da fare invece tutto sommato sopravviviamo bene e allora ecco invece però sopravviviamo quando saremo stanchi di sopravvivere e vogliamo prendere in mano la nostra vita ci prendiamo davvero ci diamo da fare veramente e la risposta quello che stiamo imparando a Sciacca quello che stiamo imparando in altri posti è dentro la comunità creare un pensiero di una comunità viva dove ti senti anche parte efficace parte attiva e quindi diventi non più spettatore ma come dice un bravissimo game designer che è Fabio Viola diventi spettatore spettautore diventi l'autore della tua vita il copione di questa vita e dell'ambiente in cui c'è lo scrivi tu grazie a Emilio Casalini grazie a voi perché c'è la voglia di creare pensiero è una grandissima sfida avete una straordinaria sfida davanti è un piacere e un onore essere qui con voi davvero grazie prova prova vediamo ci siamo grazie a voi è stato bello sentire parlare di bellezza perché abbiamo cominciato in realtà è vero così il nostro incontro quindi abbiamo parlato di tutti i lati di quella che è la nostra terra e di quali sono le nostre radici quindi anche parlare di bellezza e di cambiamento è veramente tanto importante quindi per noi è stato veramente anche un onore grazie grazie e a questo punto visto che abbiamo parlato di bellezza io vorrei cominciare con il premio radici e consegnare il secondo premio della serata a Luca Marsico Tevere che voglio chiamare qui sul palco Marsico Vetere è vero? tu sei campione italiano d'europeo giovanile dei 400 metri piani complimenti quanti anni hai? 17 ne faccio 18 a ottobre io vorrei sentire un altro applauso allora fortissimo e a consegnare il premio sarà Rossana Croce presidente della Prologo veramente complimenti 17 anni vi passo vi passo prima la parola premio a radici conferito a Luca Marsico Vetere per aver contribuito a dare lustro alla propria terra con il suo lavoro complimenti complimenti perché è vero che queste cose fanno capire ancora di più quanto è importante credere nei sogni e quante cose possiamo fare regalano ancora di più bellezza al tutto vuoi dire qualcosa? niente ringrazio tantissimo gli organizzatori di questa festa che mi hanno invitato e che hanno pensato a me per darmi questo premio ecco e adesso a moderare anche questa chiacchierata che farete ancora sarà Aldo Ferrucci grazie a tutti funziona no va bene lì c'è lì c'è un altro così così se puoi rispondere ti saluto si sente buonasera a tutti grazie ragazzi l'applauso è per Luca quando gli amici mi hanno chiesto gli amici di sempre ed organizzatori dell'evento di moderare Luca sono stato felicissimo perché sanno benissimo quanto amo lo sport quindi Luca io ti seguo e ci siamo conosciuti oggi ma per un figlio della nostra terra che è diventato l'anno scorso campione italiano in quel di Milano nella categoria allievi che poi ha raggiunto il sogno sai della nazionale veramente devi sapere che in tutti i tuoi allenamenti in tutte le tue gare c'è Stornarella sempre con te questo credo che devi tenerlo sempre con te e devi saperlo perché noi sappiamo quanto è importante lo sport è un po' quello che poi ha contraddistinto anche la mia vita bisogna faticare per raggiungere degli obiettivi quindi ti chiedo anche perché ho visto anche i tuoi tempi nei 100 nei 200 sei un velocista i 400 il giro della morte è la disciplina di velocità in pista più faticosa in assoluto ragazzi poi parliamo anche del tuo mentore sai del tuo allenatore di colui che poi ti ha portato ai 400 da dove viene la tua passione per l'atletica il microfono non si sente ragazzi allora io da piccolo ho sempre fatto tantissimi sport ho iniziato facendo calcio poi ho fatto nuoto karate tanti sport poi in quinta elementare ho provato a fare atletica ovviamente senza pensare che poi sarebbe stato il mio sport effettivamente e ho provato e da subito mi è piaciuto perché mi è sempre piaciuto essere libero poter correre poter dare il massimo e quindi ho trovato in quello sport quello che non avevo trovato anche negli altri sport e poi forse la cosa che mi ha fatto piacere di più mi ha fatto innamorare dell'atletica è stato il fatto che ho capito che in quello sport più che in altri col lavoro potevo arrivare dove volevo e quindi mi è da subito piaciuto all'inizio ho iniziato come tutti con le gare scolastiche facevo le corse campestri adesso probabilmente saprete cosa sono le corse campestri poi ho iniziato le mie prime gare in pista subito ho iniziato a fare velocità e poi ho iniziato a fare i 400 perché ero quello su cui ero più portato quello che mi piaceva di più e sta andando bene penso adesso vedremo complimenti veramente grandissimi senti ma cosa hai provato quando è arrivata la chiamata della nazionale per gli europei poi di Gerusalemme che sappiamo tutti come sono come sono andati a finire allora diciamo che è stato molto caotico quei giorni perché io sono partito da gennaio ho fatto i campionati italiani al coperto e sono arrivato ultimo quindi quando è iniziata la stagione estiva le gare all'aperto ho iniziato a fare dei risultati che non mi aspettavo di fare però in poco tempo da maggio che ho fatto le prime gare a giugno che ho vinto gli italiani è passato solo un mese molto intenso e poi dopo una settimana è arrivata la chiamata il nazionale che pensavo sarebbe arrivata dopo che avevo vinto gli italiani però quando è arrivata è stata veramente emozionante perché cioè se io penso che solo due anni fa guardavo in tv le persone con la maglia della nazionale dicevo chissà cosa si prova chissà cosa cosa fanno nella loro vita per poter fare quello quando poi mi sono ritrovato ad essere a tutti gli effetti una persona che indossava la maglia della nazionale che ha fatto il viaggio con la nazionale è stato in hotel con la nazionale è stata veramente una cosa cioè non so non la non la so descrivere e adesso diciamo allenarmi fare ancora quello sport come la consapevolezza di essere riuscito ad andare della nazionale e ogni anno provare a rifarlo è veramente una cosa che non mi sarei mai aspettato è impagabile sì perché Luca è campione europeo della staffetta nella categoria under 18 a Gerusalemme anno 2022 l'anno scorso staffetta svedese ragazzi di solito in atletica noi conosciamo la 4% e la 4x400 vogliamo dire ai nostri ospiti cos'è la staffetta svedese Luca la staffetta svedese è una staffetta che si fa nelle competizioni internazionali solo per le categorie giovanili ed è una staffetta in cui il primo frazionista fa 100 metri il secondo 200 il terzo 300 il quarto 400 e io ero quello che faceva i 400 bravissimo senti come mai il tuo allenatore anche tuo fisioterapista che è praticamente Alberto Donati poi ti ha consigliato ti ha indirizzato verso i 400 allora mi ha indirizzato verso i 400 perché magari non lo sapete adesso spiego un po' come funziona quelli che fanno i 400 devono avere una buonissima dote di velocità perché comunque è una gara breve è solo un giro però devono riuscire a mantenere questa velocità per il più tempo possibile e io fin da piccolo sono sempre stato uno che sia nelle gare lunghe di mezzo fondo tipo i 1000 metri così sia nelle gare corte tipo i 60 metri arrivavo sempre sesto o settimo sia nei 1000 sia nei 60 e allora abbiamo pensato se io arrivo sesto nei 1000 sesto nei 60 e nessun altro lo fa se dividiamo a metà facciamo i 400 magari riesco ad arrivare davanti e quindi poi è successo ti faccio altre due domande poi dobbiamo vedere il video credo della tua vittoria del campionato nazionale della categoria allievi quanto hai nella testa quel migliorare il 48 e 12 che è il tuo personale come la vivi come la vivi magari in allenamento sei già riuscito a migliorarlo il tempo ma come vivi questa cosa allora diciamo che i tempi che sto facendo adesso quest'anno sono tempi che già l'anno scorso non mi sarei mai immaginato di fare quest'anno ho fatto dei tempi che non mi sarei mai immaginato di fare appunto quindi non so cosa può succedere io so che mi devo allenare che devo dare il massimo che poi alla fine devo semplicemente correre e poi vedremo quanto potrò migliorare so che alla fine è inutile mettersi dei limiti di tempo per quanto possano essere grandi è inutile mettersi dei limiti perché poi alla fine se penso che a gennaio ero ultimo e a maggio ho vinto i campionati italiani posso farlo di tutto adesso vedranno tutti come hai vinto i campionati italiani e quel rettilineo finale che gran parte della stampa ha paragonato alla vittoria di Mennea nella famosa Olimpiade del 70 di Mosca quando sul rettilineo finale poi batte l'inglese Wells ultima domanda prima di vedere il video il tuo idolo io più o meno l'ho capito perché ti ripeto seguo l'atletica da sempre quindi ho visto anche quando è stato battuto il record il record di un grandissimo campione dell'atletica mondiale che portava il nome di Michael Johnson che era campione nei 200 e nei 400 dove ha vinto di tutto e di più chi è il tuo idolo? Allora i miei idoli diciamo a livello assoluto sono sia Michael Johnson appunto sia quello che poi ha battuto il record che si chiama Van Niker che è un sudafricano perché diciamo quello che ho sempre apprezzato di loro e degli atleti diciamo internazionali soprattutto americani è il fatto che loro non facessero solo i 400 come magari avviene di più in Europa ma facessero 100 200 400 tutti e tre ad alto livello poi sono più specializzati nei 400 però fanno tutto ad alto livello e sono competitivi in tutto a me quello mi è sempre piaciuto non focalizzarmi su una cosa ma essere competitivo in più cose possibili quindi il mio idolo se dobbiamo dire un nome è Michael Johnson perché poteva fare più cose grandissimo Drabbit lo chiamavano il coniglio praticamente tradotto in inglese vogliamo vedere la gara di Luca perché credo che è veramente bello da vedere quel rettilineo finale l'ho guardato tantissime volte mi emoziona sempre io credo che anche il pubblico sia curioso no? magari ci avviciniamo io e te Luca vicino così guardiamo anche noi 100 metri il cosiddetto giro della morte che vedrà in corsia esterna Luca Marsico Vetere della Libertas Atletica Forlì in corsia 7 per il battaglio Cus Torino Davide Cariglio con 5-0-4 d'ingresso quindi anche lui molto vicino Giovanni Battista Maglietta Atletica Marcianese in corsia 6 Federico Azzolina Treviso Atletica in corsia numero 5 Tommaso Iorio per l'Atletica Futura Roma corsia 4 in corsia numero 3 ha molto ben impressionato in batteria Pietro Alipel Fadella atletica Pio Tecna 49-87 in batteria secondo tempo dopo il 49-83 di Maglietta quindi due atleti ripescati entrambi della studentesca Rieti Andrea Milardi Francesco De Santis in corsia 2 entrambi del 2006 tra l'altro e God's Power Santini nella corsia 1 Santini in 1 De Santis in 2 Alipel Fadella in corsia 3 Iorio in corsia 4 Azzolina in corsia 5 Maglietta in corsia 6 Cariglia in corsia 7 Marsico Vetter in corsia numero 8 vanno sui blocchi una finale di 400 metri tutta da vivere mentre la sticella nell'alto sarà quota 1 e 95 finale molto aperta nella caccia al titolo tricolore al coperto ha vinto De Rosa che qui si era ripetuto ma sugli 800 metri piani maschili la finale di questi 400 metri piani maschili con gli ottimi avvioli esterni sia di Cariglio sia di Maglietta ma molto bene anche in corsia 4 Iorio che ha impostato una gran curva nella fase iniziale prova a prendere il punto di riferimento a Libel Fadel Iorio in prima posizione bene le corsie esterne Maglietta Cariglio Marsico Vetere con Libel Fadel all'interno che prova a non perdere troppo terreno da Iorio Iorio al comando con all'esterno in corsia 7 Gariglio che si sta comportando benissimo al pari di Maglietta ed è Gariglio presentarsi con Iorio in tenza sulla retta finale ma è una gara equilibratissima e forse proprio Davide Gariglio per il battaglio Custorino Gariglio Iorio Gariglio Iorio Iorio ma è Marsico Vetere all'esterno grandissimo con 49 65 il tempo non è avete capito di cosa parlavamo grandissimo grandissimo e io vado dall'altra parte ma è bello della diretta funziona sempre va bene intanto grazie Aldo Luca complimenti prenditi ancora questo applauso veramente forte strameritato è bello vedere nei tuoi occhi quella gioia quando racconti di quello che fai è veramente bello spero che sarà sempre così anche in futuro e ti auguro di continuare a fare quello che fai e andrà sempre bene volevo dire quello che ti ho detto all'inizio ricordalo sempre questa è una comunità molto unita e compatta quindi quando ti allenerai quando farai le gare devi sapere che 5.000 persone saranno nella tua testa nel tuo cuore e nelle tue gambe va bene grande Luca grazie Luca ancora tantissimi complimenti siamo arrivati all'ultimo ospite della serata intanto io voglio salutarvi me lo presento prima Matteo Angioli e a moderare l'incontro saranno gli ideatori del festival quindi Angelo Costa ritorna sul palco e Celestino di Corato e prego prego Matteo Angioli ho sbagliato? Matteo Angioli ovviamente ormai per i cognomi niente anche prima con Luca va bene sono partita e vi ricordo anche vi saluto e vi ricordo l'appuntamento di domani per il festival del pensiero secondo appuntamento ciao buona serata e buon proseguimento e a questo punto ne ho due allora ci siamo Matteo c'è l'immagine? raccontiamo un attimo come ci siamo conosciuti con l'associazione attivamente abbiamo organizzato un viaggio un viaggio a Bruxelles dove abbiamo visitato le istituzioni europee abbiamo visitato il Parlamento europeo e in quell'occasione dove c'era una rappresentanza dell'associazione siamo stati un gruppo ospitati dall'onorevole Mario Furore abbiamo oltre a fare le classiche visite istituzionali abbiamo fatto scoperto una cosa diciamo grandiosa perché l'ultimo giorno la mattina dell'ultimo giorno abbiamo visto un docufilm un docufilm sulla vita di Marco Pannella ideato diciamo dove c'era anche molto del tuo lavoro sicuramente della sua vita diretto da Simona Ventura e quindi non vi nego che è stata un'esperienza emozionante diciamo un video che è veramente molto 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 bello e quindi partendo proprio da qui prima di entrare diciamo nei dettagli della tua storia perché tu sei stato vicino a Marco Pannella essendo suo assistente negli ultimi 15 anni 15 anni Marco Pannella ha rappresentato veramente noi l'abbiamo intitolata alle radici del pensiero libertario perché Marco Pannella è nato nel 1930 e quindi diciamo ha vissuto gran parte della storia repubblicana proprio seguendo proprio tutte le tappe perché Pannella è entrato in politica più o meno negli anni 50 prima nel partito liberale se non erro poi ci fu una scissione dal partito liberale Pannella insieme ad altri costituì questo partito il partito repubblicano che ha una storia diciamo si può dire che è il partito più antico perché dal 56 se non mi sbaglio dal 55 dal dicembre del 1955 fino ad oggi che cambiando forma cambiando statuti però è sempre quello il partito radicale allora io prima di iniziare con la prima domanda volevo chiedere diciamo alla regia se era possibile proiettare il primo video noi stiamo lottando perché ci sia libertà della donna di concepire davvero con amore non di avere questa condanna tutti questi temi l'omosessualità l'eterosessualità l'eiaculazione precoce tutte queste cose le quali se vuoi possiamo e dobbiamo parlare se vogliamo poi impedire che i genitori guardino crescere i loro figli col timore che la ragazza diventi puttana o con il ragazzo omosessuale o cose di questo genere invece di vivere assieme in un clima di amore e riuscire a fare della società qualcosa che rende più felici perché più liberi più responsabili perché più puliti più capaci di amare e meno di pagare e grazie all'altro voto quello sull'aborto quello che ha sconfitto ci ha permesso legalizzandolo di sconfiggere l'immondo aborto un clandestino un clandestino di mafra voglio dire che sull'aborto stiamo realizzando una delle più grosse truffe per i quali o mi mettono in galera anche a me o tirano fuori anche gli altri per trovare altre belle soluzioni questo per l'altro è un regalino secondo me mi ha regalato una targa con il numero del padre qui ti ho regalato il mio arresto perché sono 200 grammi di acese ma guardate che cosa mi ha fatto ragazzi questo fa male questa è la morte dei ragazzi in nome dei ragazzi che per farsi una fumata o prendere le loro triste dose o nel padre e il nonno prendono la triste dose d'alcol io dico con loro a voi in nome e con amore no alla droga no alla droga di stato ha paura di noi no ha paura della gente sanno che se la gente sui telegiornali ogni sera sentissero quello che noi facciamo davvero proponiamo la gente non il 3% ma il 50% forse sarebbe con noi come sul divorcio furono al 60% e allora per paura della gente via la democrazia informazioni ripeto no all'odio no agli insulti no alle corne che fate no al mondo triste enorme e bubo e violento grazie 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 ci riserviamo Matteo la sensazione che si ha è quella che nonostante diciamo il partito radicale non abbia mai raggiunto cifre importanti alle elezioni politiche tranne forse una volta ne abbiamo parlato telefonicamente nel 99 alle elezioni europee dove prese una bella una bella percentuale l'8 e mezzo per cento si ricordo bene ma Marco Pallena si è riuscito ad incidere nella vita politica nonostante una scarsa rappresentanza più di tanti altri politici che hanno scaldato diciamo le sedie di scranni di Montecitorio oppure di qualsiasi altra istituzione nazionale europea mi piaceva parlare con te di tutte le battaglie lo so che sono tante ci vorrebbero veramente 24 ore ma cerchiamo di dare anche diciamo a chi magari anche per memoria non riesce diciamo a ricordare le principali tappe proprio di e poi magari con Angelo affrontiamo altri ragionamenti grazie intanto partiamo poi vediamo come va la prima tappa innanzitutto è quella del ringraziamento a te ad Angelo a Michele a Vincenzo che purtroppo non è potuto essere qui stasera perché è un invito veramente che ho accettato subito per diversi motivi il primo è che parlare di Marco Pannella e di pensiero è una cosa naturale perché Marco era una persona che il pensiero nel pensiero ci credeva e lo coltivava e invitava a coltivarlo e con esso naturalmente la libertà di pensiero perché altrimenti il pensiero unico non funziona soprattutto nel partito radicale l'altra ragione è il titolo le radici le radici Marco quando nel 55 56 da dicembre e gennaio a cavallo di quegli anni fondò con altri storici esponenti liberali e qualche matto radicale giovane il partito radicale la motivazione fu quella di voler andare alla radice dei problemi e questo è stato quindi il filo che ha seguito e che ha tessuto in tutte le sue azioni perché come stavi appunto dicendo le battaglie sono state tante e tutte affrontate a volte in una volta sola cioè in una concentrandoli in poco tempo come fu nel caso dell'aborto nel caso del divorzio altre invece insieme ma ognuna andando letteralmente alla radice del problema senza lasciarsi andare a facili slogan o a battute da pochi minuti perché Marco come forse ricorderete era abbastanza anche logoroico e lui era il primo a riconoscerlo quindi lui ha iniziato di fatto e questa è stata la vera ricchezza credo negli anni 50 si sono trovati e soprattutto negli anni 60 si sono trovati 5 10 giovani entusiasti interessati alla politica alcuni di loro discretamente facoltosi e hanno creato l'entusiasmo hanno coltivato l'entusiasmo che gli ha permesso di fare quello che poi è stata una storia durata 50 anni direi un entusiasmo per la politica e per le persone perché Marco in particolare ha fatto quello che ha fatto perché gli interessavano le persone non c'è altra spiegazione a lui interessavano le persone le storie gli individui le comunità le tradizioni le culture diverse e si nutriva di queste persone che poi lui aveva piacere di incontrare naturalmente te l'ho già detto mi pare se avesse avuto a disposizione tre ore lui si fermava con chiunque per strada e gli dava tre ore quando poteva perché era quello che gli piaceva fare lui stava bene stando con le persone e facendo come dire provando a fornire soluzioni per i problemi che viveva con le persone con noi questa era la sua forza che ha riuscito a mantenere sempre direi in ogni contesto in ogni tempo Marco era così nelle istituzioni era molto diretto era molto schietto autentico era poco diplomatico ma rispetto su delle istituzioni e delle forme la forma come diceva lui è anche sostanza e riusciva ad esserlo nelle istituzioni all'alimentare al quirinale in carcere ovunque io non posso che essere considerarmi non privilegiato di più ad aver potuto avere quello che io definivo un virgilio perché per me è stato virgilio non che io sia Dante però io veramente ho avuto un virgilio che ha permesso di farmi conoscere non solo il mondo della politica ma in qualche modo anche veramente le persone di comprenderle quindi per finire vengo alla risposta lui ha iniziato con veramente con cinque sei amici direi la prima battaglia fu quella non fu quella per il per il divorzio in realtà lui aveva iniziato negli anni 60 con le marce antimilitariste non perché fosse contrario come i pacifisti che lui chiamava pacifinti perché si sono sempre pronti a schierarsi di fatto con il dittatore o l'aggressore di turno perché no alla guerra e certo siamo tutti contro la guerra poi bisogna vedere come ci si arriva a quel no alla guerra erano marce antimilitariste perché erano marce fatte per scoraggiare lo sviluppo di società sempre più influenzate dalla forma mentis dagli interessi dagli assetti dagli interessi militari e quindi la proposta era di un disarmo a livello globale non unilaterale naturalmente poi è seguita la battaglia sull'aborto c'è stata la battaglia per il voto ai 18 anni la battaglia per la riforma del diritto di famiglia in generale la battaglia per l'aborto molte anche battaglie a livello istituzionale cioè per evitare che venissero stravolti i regolamenti parlamentari che negli anni hanno di fatto tolto sempre di più la parola al parlamentare snaturando quello che è il ruolo del parlamentare ammazzando il dibattito ammazzando quindi la libertà di pensiero perché purtroppo il dibattito ne ha risentito l'abuso dei decreti legge poi le battaglie per la giustizia giusta la storia di Anzio Tortora e poi potremmo continuare ancora avanti fino a pochi anni fa perché fino agli ultimi giorni è stato diciamo ci ha messo il corpo diciamo e c'è una bella frase di Bertinotti che l'ho vista proprio abbiamo abbiamo avvenuto il il video dice Marco fa politica anche con il corpo e quindi tutte le il modus cioè proprio l'idea dello sciopero della sede dello sciopero della fame è una cosa diciamo che è una novità una novità non dimentichiamo che ha voluto dedicare anche gli ultimi giorni della sua vita all'impegno politico al diritto della conoscenza abbiamo visto nel docufilm presentato dalla dall'avventura anche un Marco Pannella inedito assolutamente inedito adesso vedremo magari con il prossimo video qualche qualche piccolo frame diciamo di quei giorni là in cui Marco ovviamente era presente con lui notte e giorno giusto a me ha colpito molto quel docufilm mi ha toccato io conoscevo ovviamente le battaglie di Pannella con capelli bianchi quindi ho visto le sue gesta conosciamo molto bene Marco Pannella personaggio pubblico e magari non conoscevo personalmente l'aspetto diciamo umano che poi ho apprezzato proprio politicamente diciamo sono un po' distante forse da tante da tante sue battaglie anche se alcune francamente le condivido però conoscevo poco il Marco Pannella umano umano sì e quindi l'ho apprezzato molto mi hanno colpito simpaticamente ricordo non so se eri tu che lo accompagnavi in macchina lui abita in centro a Roma giusto? in centro di solito in città prendeva il taxi si muoveva in taxi però ho visto che c'era un video fortissimo dove stava attraversando delle strade del centro di Roma e ovviamente c'erano i pedoni non si poteva passare con la macchina e lui anziché far suonare il clacsono per fargli spostare si affacciava dal finestrino e lanciava slogan e diceva buongiorno sera mattina poi buonasera buongiorno grazie grazie e intanto batteva sullo sportello con la macchina per farsi largo per non disturbare perché lui abitava a Via della Panetteria che era proprio a due passi dal Fontana di Trevi quindi c'è sempre una folla incredibile sensibilità sì perché diceva io non voglio che tu suoni il clacson perché è maleducazione né voglio che tu sgassi troppo con il motore che tu faccia rumore con il motore perché allora si era trovato questo metodo che se ci pensi è anche simpatico ma è buffo ma è gentile buonasera grazie ma richiama proprio quello che hai detto lui piaceva stare con le persone non voleva assolutamente infastidirle sì direi di vedere il secondo film tutti i partiti tranne il partito radicale erano contrari anche ad avviare il dibattito in Parlamento sull'aborto questo mentre ogni anno un milione e mezzo almeno di donne sono costrette all'immundo aborto clandestino di massa di classe portatore di malattie di traumi e di morte ogni persona che veniva era un incontro speciale. Capito perché tutti i giorni ti mettevo una canzone di Vasco? E che non lo so. Era una trappola. Si ero già arrivato. Quindi da te la ricada per uno fissato con la politica era il meglio dei 40 secondi era quando partivano. Volevano raccontare che riconosciavano. Certi ideali se sono vissuti anche da una sola persona. Se gli dà corso, gli dà parole. Esatto. Funzionano. Perché? Perché corrispondono al senso comune, cioè alla storia. Tutti avevano una cosa da dire, Marco aveva ascolto e parole per tutti. Ha un minuto ancora, papà? Allora. Che in questi giorni ogni tanto di telefono ti vengo a trovare se non disturbo. Va bene? Che disturbo? Allora non vengo. Ti manderò a Cicchietto, ti manderò a Cicchietto. Aiutiamoci tutti insieme per il diritto alla conoscenza. Non c'è mai una fase in cui tu non pensi a iniziative, in cui resti inerte. però quello che ti voglio dire è che io non ho mai smesso di amarti, anche se non mai visto nei tuoi cortei, nelle tue avventure non solo politiche ma soprattutto sociali ed umane. Renato era con te, eh? Non so che dire. Solo solo piange. Anch'io, con felicità. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Come si fa in dieci minuti? Eh no, no, sono davvero pochi. Però ti volevo chiedere se insomma se ti va di parlarne. Che cosa? No, non mi va sicuramente. Che cosa ne è stato della sua ultima battaglia? Allora, l'ultima battaglia, diciamo che per quanto riguarda diritto alla conoscenza, che poi è anche una battaglia che è stata sposata da Franco Battiato in particolare, come hai visto, è un po' un tornare alle origini, perché mi ricollego a un po' di cose che avevate detto prima. Il Marco Pannella che purtroppo avete, abbiamo visto in televisione soprattutto, soprattutto negli ultimi vent'anni direi, ma un po' sempre, è sempre stato la punta di un iceberg, di quello che poi in realtà era e faceva, anche con gli altri compagni del Partito Radicale naturalmente. Cioè in televisione a un certo punto eravamo a tavola, all'italiano medio, e gli compariva questo pazzo, rinseccolito, emaciato, un po' sgarbato magari a volte, che diceva delle cose assolutamente fuori dal normale, dal copione della politica italiana. Per me quello è stato il motivo per cui mi ha incuriosito, perché poi però pensavo, ma perché quest'uomo fa queste cose? E allora ho iniziato a cogitare, a pensare, eccetera. Però nel affiancarlo ho capito che non poteva andare oltre il 2%, perché non sei mai presente. Quindi l'italiano, noi, tutti, se non familiarizzi minimo con una persona, con un tema, è chiaro che lo vivi come una cosa estranea. Per questo il diritto alla conoscenza allora. E lui diceva, è come se a un certo punto mandassero in televisione, in audio, un pavarotti che dà il suo do di petto, no? In quel momento lì? Ma se te perdi tutto quello che viene prima, è un urlo spaventoso, dice ma che è? Ecco, lui veniva spesso visto solamente in queste fasi qua, nelle più drammatiche a volte, nelle più tese, ma tutto nei mesi precedenti. Chiaramente c'erano iniziative politiche, incontri, conferenze stampa, manifestazioni che non venivano però conosciute, venivano trasmesse da Radio Radicale. Perché? Perché la RAI, l'attività di Stato, è lottizzata. Questo è stato il filo, un altro dei fili, diciamo, ma forse il tema principale su cui lui ha voluto battere continuamente. Perché un sistema indipendente non dovrebbe avere niente a che fare con i partiti. Non dovrebbe avere niente a che fare. Contro il finanziamento pubblico ai partiti, ha restituito, diciamo, il dovuto e tante altre battaglie possiamo citare. Però quello che ho notato, diciamo, in questo piccolo video, che ovviamente nell'ultima parte, negli ultimi cento giorni, tantissime persone, penso solo poche, ce ne saranno state tantissime altre che hanno, che sono andate a trovarlo, hanno espresso, però ci vedo un po' di ipocrisia. Ci vedo un po' di progrisia e secondo me, se ne è parlato per troppo tempo, lui, per quello che è riuscito a fare, perché è riuscito ad anticipare i tempi, perché poi la battaglia sull'aborto, sul divorzio, sulle coppie di fatto, sono tutte state vinte nella storia. Sono state vinte nella storia. Quindi il non averlo nominato senatore a vita, secondo me, è stato un errore che mostra l'ipocrisia di tantissimi politici. Non so che ne pensi. Allora, sull'ipocrisia. Sull'ipocrisia penso che non sia così, perché in realtà lui ha avuto sempre molti avversari, ma tutti nel rispetto. Tutti nel rispetto e tutti, devo dire, sono venuti a rendere l'onore delle armi. Sono venuti a salutare, a rendere omaggio a un avversario che hanno rispettato comunque. Ricordiamoci anche che ha affrontato tematiche lontane magari anche dal mondo della cattolica. Avete visto Monsignor Paglia. E invece, poi alla fine, era trasversalmente rispettato da tutti, gliel'hanno riconosciuto. Abbiamo visto la sua vicinanza col Dalai Lama. Il Dalai Lama, se non ricordo male, è stato l'unico politico italiano a essere invitato per la festa degli 80 anni del Dalai Lama. Insomma, voglio dire, comunque la sua battaglia più grande, forse che ha vinto, è proprio questa. essere riconosciuto trasversalmente come una persona coerente, sicuramente, penso che siamo tutti d'accordo su questo. Mi fermo qua, insomma, sono curioso di dire... No, coerente, volevo dire, coerente, benché chiaramente sia stato criticato, perché una volta si è candidato nel 94 con un accordo con Berlusconi, nel 2006 con invece Prodi. Coerente nelle sue battaglie, nei suoi obiettivi. Perché, come si può dire, mi viene in mente un ragionamento, un pensiero di Gandhi, diceva la verità, il mio comportamento non è rimanere fedele a un'idea che ho espresso in quel dato momento. La mia fedeltà, la mia coerenza consiste nel mantenermi coerente con i principi per come mi si rivelano in base a quella verità e a quelle cose che io capisco in un dato momento. Quindi io posso capire dopo alcune cose, per cui non credo più in un'idea che invece avevo in precedenza. Ma quello che ha contraddistinto poi gli ultimi mesi della sua vita è stato il fatto che queste persone venivano a rendergli omaggio perché avevano visto in lui il fatto che aveva sempre cercato il dialogo. Per quanto fosse così, a volte percepito, a volte in maniera spigolosa o poca diplomatica, però Marco ha sempre cercato, attraverso la non violenza, di creare il dialogo innanzitutto con il governo, perché lui è sempre stato all'opposizione, tranne in questo momento del 2006-2008 con il governo dell'Unione dove entrarono tutti, da rifondazione fino all'Udeur di Mastella. Ci fu la Bonino che divenne ministro, ma ci fu un episodio che devo ricordare per forza perché è molto indicativo di chi era Marco Pannella anche, era il conclave di Caserta e a un certo punto a Radio Radicale si sente il conclave di Caserta, scusate, era la riunione della Presidenza del Consiglio allargata a tutti i capi di partito o ai leader di partito oltre ai vari ministri. Quindi fu il primo, mi pare, di quella legislatura. Marco cosa fece? Entrò in riunione con il cellulare collegato a un Radio Radicale. Quindi l'inizio del conclave, della riunione, andò in diretta a Radio Radicale. Non si capiva un gran che. Ma perché fece questa cosa? Perché voleva dare un segnale rispetto all'immobilismo che già stava segnando quel governo. Era una mossa per attirare attenzione su di sé. No, era una mossa appunto per far cercare di andare, di far correre, andare diversamente le cose e per dare un segnale di apertura. L'apertura è sempre stata in fondo anche un'altra caratteristica. In questi tre mesi perché li ha voluti vivere così? Perché non si è rinchiuso in casa con noi? Perché ha voluto aprire anche nel momento di sofferenza, anche nel momento più difficile, più delicato, quello in cui ci avviciniamo al trapasso, l'ha voluto condividere, l'ha voluto far vivere alle persone. Abbiamo visto alcuni VIP, cosiddetti VIP, ma la maggior parte delle persone che sono venute erano militanti, appunto il padrone dell'alimentari, il vicino di casa. Lui era contento perché così si alimentava e così è riuscito ancora una volta anche a far parlare non di sé, ma delle battaglie che stava portando avanti in quel momento. Infatti volevo dire, io non posso che ringraziarvi perché anche attraverso, come ringrazio anche naturalmente Giovanni Terzi e Simona Ventura per aver realizzato il docufilm, perché c'è il rischio che si torni all'autoreferenzialità, io ho lavorato con pannella, Marco è bravo, è tanto bravo. No, questi sono momenti per me importanti, davvero, perché è un momento in cui posso far conoscere anche tramite voi, tramite l'associazione, il lavoro che va avanti in una squadra che non ha più il suo pelè, ma che va avanti e che deve andare avanti. Su tutti i fronti, dall'informazione democratica alla situazione delle carceri, sono molto lieto di quello che ha detto, mi ha fatto molto piacere ascoltare la battuta finale del dottor Laronga quando ha detto che le regole sono il fondamento delle nostre società. Le regole sono quelle su cui il partito radicale ha basato, non statutariamente, legalitariamente parlando e basta la sua azione, ma anche come modo di organizzazione dalla famiglia al condominio, alla nazione, al paese. E questo è stato un altro pilastro di tutte le battaglie che Marco ha condotto. Fermatemi ragazzi, perché nel 2002 quando ho iniziato a lavorare con Marco, io arrivai a Bruxelles, al Parlamento europeo, dopo un mese dice bisogna tornare a Roma, andiamo a Roma, riunione, c'era il problema della corte costituzionale che non aveva il plenum da almeno due anni mi pare. Quindi l'organo preposto alla verifica della costituzionalità delle nostre leggi era esso stesso fuori legge, ma non da un mese, da quasi circa due anni. E lui trovava questa storia insopportabile. Allo stesso tempo c'era la Camera dei Deputati che era priva di 13 deputati perché le porcate elettorali, delle leggi elettorali che avevano preso tutt'altro senso da quello auspicato da Pannella, quindi un misto torbido di proporzionale e uninominale, avevano prodotto la mancanza di 13 deputati. E quindi il Parlamento sedeva tranquillamente con 13 deputati in meno, dice vabbè ma che cambia? Si risparmiano 13 stipendi, non c'è nessuna differenza, discorsi che poi non hanno nessun impatto in realtà sulla democrazia e sul rispetto delle regole sì. E qui c'è anche l'altro problema della giustizia, il dottor Laronga lo sa benissimo quanto Marco Pannella credo abbia voluto mettere al centro il problema della durata eccessiva dei processi, non parliamo nemmeno del civile perché il civile per alcuni presidenti di tribunale probabilmente non esiste nemmeno. E questi sono problemi che hanno un impatto anche sulle nostre comunità, sulla fiducia dei noi cittadini nelle istituzioni. Perché a quel punto devo andare a spendere, a aspettare vent'anni per la risoluzione di una causa civile? Oppure il problema delle carceri, anche lì le carceri, la polizia penitenziaria ma anche la polizia, le forze dell'ordine generale, spesso sotto organico, ma la regola prevede un numero per certi istituti penitenziari di base per le caserme. Anche queste sono regole che devono essere rispettate e non lo sono. Quindi il rispetto delle regole è tutto lì, ma non in maniera legalitaria, ma in maniera concreta che permetta a noi cittadini di dire ok, ce la possiamo fare. Le battaglie sono tante, le storie sono tantissime. Io ti voglio ringraziare perché è stato un piacere, un grande piacere. Mi volevi dire qualcosa? Ti volevo dire perché ci voleva di due cose veloci. A Luca, complimenti a Luca per quello sprint finale, mi ha fatto venire in mente che li ha fregati tutti. C'è l'ultima copertina di Rolling Stone, poco prima che Marco morisse, c'è una bella foto di Marco che ho scritto sotto, vi fotto tutti. Proprio perché lui diceva di fatto abbiamo già vinto. Come dicevi prima, le battaglie che poi si sono venute ad incardinare, i risultati di questi ultimi anni hanno effettivamente dimostrato che ci aveva visto lungo. L'altra cosa è che nel ringraziarti ancora, nel ringraziare tutta l'associazione, noi ci siamo conosciuti a Bruxelles, io spero che un giorno, più prima che poi, potrete andare a Londra e fare in modo, noi Marco lo chiamavamo l'imperatore, noi assistenti al Parlamento Europeo, era l'imperatore perché era proprio il top dei titoli sovrani che si potesse dare. Qualche re ha detto, where is Puglia, where is Puglia? Spero che ora tu vada a Londra per farglielo vedere cos'è la Puglia, ti auguro che possiate portare uno dei regali ospiti qui in where is Puglia. Grazie. Quindi davvero vi ringrazio molto. Grazie, grazie a te. Starei ore a parlare, ma credo che il sindaco ci stacca la corrente. Avrei voluto farti l'ultima domanda, come era Marco nella vita privata? Ma la tua emozione, la tua emozione ce l'ha raccontato. Ho dato risposta già, insomma, quindi grazie, grazie davvero per essere venuto, speriamo di rincontrarci per un'altra avventura magari. Grazie a voi. Appuntamento a domani. C'era un impegato dell'alimentare che diceva sempre, come stai, come stai? Io sto bene perché la vita è bella se voti Marco Pannella e se vai anche a Stornarella, oggi possiamo ancora. Grazie, grazie, a domani andiamo a mangiare. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.